Dalla concessionaria Satiri Auto a Trevi state per assistere alla decima puntata di Studio 91 di Sigla. Satiri Auto, showroom dell'automobile dal 1966. Vieni a trovarci nelle sedi di Perugia, Ponte Fecino, Gualdo Tadino, Gubbio e Trevi. Satiri Auto, cresce la passione per le quattro ruote. Buonasera, puntata numero 10 di Studio 90 lunedì. Come vedete anche dalla location dove siamo, giriamo un po' tutta l'Umbria quest'anno, quantomeno la provincia di Perugia. Adesso siamo a Trevi, molto vicino a Piazza Umbra. Naturalmente nel corso della puntata vi ricorderemo dove siamo da un nostro sponsor della prima ora. Allora io saluto, risaluto Marina per quanto riguarda questa puntata, un po' afona sia lei che io naturalmente. Per problemi di mal di stagione, devo dire che a me lo Stadio Curi alle 21 fa particolarmente effetto, però questo non è emozionale, mi mette pensiero fa il 2 dicembre a tornarci, però questo detto per inciso. E saluto naturalmente anche Irene. Ciao Irene, ieri tu eri a Città della Pieve per il derby tra pievese e orvietana, poi dopo ci racconterai quello che è successo nel dettaglio sia col servizio che ovviamente con la tua opinione. Ma vado a salutare gli ospiti partendo dalla sinistra del vostro teleschermo e quindi partendo dal centrocampista della Vis Foligno, Leonardo Agostini. Ciao Leonardo. Buonasera a tutti, buonasera. Sei momentaneamente ai box, però un rientro quando è previsto? Rientro è previsto, spero, il prima possibile, forse una decina di giorni ci vorranno, anche se domenica c'è il big match contro il Bevagna, faremo in modo di esserci. Dai, lavorerò e darò sempre il massimo, ma sempre, per far sì che rientrerò il prima possibile. I ragazzi si stanno comportando comunque bene, quindi non ci sono assenze per il momento della Vis. Parleremo dopo, vedremo il filmato, purtroppo ieri è andata male perché la Vis è stata sconfitta in casa dal circuito, nonostante diverse occasioni da gol avute, però si sa che il calcio purtroppo chi non segna ha sempre torto e quindi ci può stare di perdere. Accanto ad Agostini c'è Giacomo Bevilacqua, ciao Giacomo. Sì, però in questa era no, perché guardando lui sembra che stai ai tempi di Barbarossa, quindi non vorrei che qualcuno pensa che io torno dal barbara. Tra l'altro poi la domanda che avrei fatto a Leonardo è come ha fatto a sopportarti da direttore sportivo. Ma dopo infatti gli faremo svelare un segreto mio che nessuno conosce, eh Leonardo, dopo. Dopo ne parleremo. Andiamo invece alla destra dei nostri teleschermi a dare il benvenuto a Studio Novantesimo lunedì a Luis Alberto Squadroni, portiere dell'MC98. Ciao. E poi naturalmente Stefano Baiani, direttore di 7calcio.it. Ciao Stefano. Grazie Fabio. Con lui mi dà sempre l'aggancio per ricordarvi Goleada. Tutte le domeniche, adesso che le partite iniziano alle 14.30, avvio intorno alle 14.20 per raccontarvi con collegamenti dai tutti i campi e in tempo reale, grazie a 7calcio, tutti gli aggiornamenti. Dalla Serie A fino alla seconda categoria. E dunque io direi di inoltrarci subito nella trasmissione, giusto il tempo, di ricordarvi che venerdì la trasmissione gemella, aspettando la domenica, non andrà in onda perché c'è la sosta del campionato di Serie B e anche di quello di Serie A, naturalmente anche se non ci riguarda. Quindi ve lo volevo ricordare, con la trasmissione del venerdì torneremo il giorno 23 di novembre, ma naturalmente prima ci vedremo lunedì prossimo. Allora, andiamo subito dentro con Irene che ci legge i risultati del campionato di promozione Girone A. Branca Trasimeno 1-0, Casa del Diavolo Pianello 0-1, Castiglione Semacchi Corciano 1-1, Montone Piccione 2-0, Mugnano Tiferno 1919 0-1, Selcinardi Mara San Feliciano 0-3, Tavernele San Marco Juventina 3-1, Ventinella Pietralunghese 0-2, in classifica in testa c'è la Tiferno con 28 punti, segue il Branca 18, Trasimeno 18, Montone, Mara San Feliciano, Casa del Diavolo, Tavernele 17, Piccione 15, Ventinella Castiglione Semacchi 14, Mugnano 13, Selcinardi 11, Pianello San Marco Juventina 10, Pietralunghese 8, Corciano 1. Parlare dell'ennesima vittoria della Tiferno sarebbe l'anacaprina, diciamo, perché ormai le cifre anche la dicono lunga, la vinte tutte, meno un pareggio se non sbaglio Stefano. No, vittoria un pareggio con il Marra, c'è da dire che la Tiferno sta avendo un'andatura straordinaria, però le vittorie sono contro avversari che quando le affronta sono in un momento positivo. Poi ce la mettono tutta per battere la superfavora. Poi ce la mettono tutta, il Mugnano ieri aveva sempre vinto in casa, sette giorni fa la Castiglione Semacchi in trasferta non l'aveva mai verso, anzi ne aveva vinte tre e pareggiata una. Per cui diciamo, le avversarie sono comunque, arrivano in buona forma, però subiscono poi la forza di questa squadra di Mister Santecec. Tra l'altro, Giacomo, in Italia ci sono, sembra, due sport nazionali, uno quello di fare tutti gli allenatori e il secondo da qualche settimana a questa parte sembra diventato quella di prendersela con i giornalisti e con gli operatori. È successo anche a Mugnano ieri. Allora, io direi che è il caso di dire basta una volta per tutte in maniera ferma e decisa, perché poi ci possono essere anche dei risvolti che non sono proprio simpatici. Perché? Perché a questo punto, insomma, io mi annoio tutte le volte di continuare a dire che c'è gente che ci mette passione, che viene lì... Non facciamo come stanno le cose. Noi abbiamo un accordo con la federazione, voglio dire. C'è anche questa cosa, no? Che siamo autorizzati a entrare. Sì, ma più che l'accordo... E ci tutelano anche. Dobbiamo svolgere il diritto di croce. Esatto, e ci tutelano anche. Cioè, voglio dire, dobbiamo fare un braccio di ferro, lo facciamo. Però non so a chi conviene. No, appunto, però è un mal costume... Fate una cosa, quando c'è la partita e state sugli spalti, ignorate la telecamera. Perché quello che bisogna mettere o non bisogna mettere nel servizio lo sa benissimo il giornalista e lo sa benissimo l'operatore. Non hanno bisogno di suggerimenti. Già siamo in tanti. Nella maniera più assoluta, perché poi si crea confusione, si scontenta uno piuttosto che l'altro. No, ma tanto Fabio, non lo possiamo manco fare. Quindi, voglio dire, è inutile che loro chiacchierano. Tenete a freno i vostri bollenti spiriti, perché se no veramente sta diventando una cosa molto, molto antipatica. Mi andavo a dire questo, torniamo al calcio giocato. Due squadre ieri sugli scuri, a parte Latiferno. Ormai è finito il campionato. A meno dieci dove andiamo? Il Branca ha conquistato il secondo posto. A Branca, guarda, il campo è piccolo. Il campo, bisogna dire la verità. La gente mormola. Non si arrabbierà nessuno. È difficilissimo andare a fare punti a Branca. Ecco, adesso ho capito il perché. Questa squadra, nell'anno scorso, andò in eccellenza con una facilità impressionante. Quest'anno si ritrova in promozione. Però lì è difficile vincere. È difficile vincere perché il campo è molto stretto e piccolo. E il tifo è proprio addosso. Quindi la differenza... Mi sembra un po' di rivedere lo stadio di Giulianova. Però il stadio di Giulianova all'interno... O il vecchio ballarino. O il vecchio barbara visto. L'esame elettro del tronco. Esatto. Quindi, io l'avevo preannunciata la sconfitta della Trasimeno. Perché, purtroppo... Però qui devo aprire una parentesi. Perché me l'hanno chiesto molte società che hanno giocatori importanti in rosa. Vi do spunto anche ai colleghi della carta stampata. Il Corriere alla Nazione al Messaggero. Bisogna far sì... E lo dico anche al Presidente degli Arbitri. Bisogna tutelare il giocatore che ha qualità, che fa spettacolo. E mi riferisco a quelli importanti. I Peronulli, i Pelusi, i Bevilacchi... Ce ne sono tanti. Perché non è possibile tutte le domeniche caccia all'uomo. Perché c'è il deficiente che si alza la mattina, che indossa la maglia numero 5 o 3 o 4 o 2. Oggi gli faccio vedere io. Faccio io la partita. E da zampare... Anziché giocare a calcio, da calci. Ti devi solo vergognare. Devi andare a giocare nella Wisp. E c'è colpa. Gli arbitri che questi giocatori li deve tutelare subito. Non l'ammunizione, l'espulsione. Senza nulla togliere la Wisp, naturalmente. Sì, vabbè, adesso certo. Ho detto la Wisp perché è l'ultima categoria. No, perché ci sono fiorfiori di giocatori anche lì. No, perché è l'ultima categoria. Però voglio dire agli arbitri, voglio dire al Presidente degli Arbitri, ma istruitele sta gente, no. Voglio dire, un giocatore mediocre si può ammonire perché la caccia, l'intenzionalità non c'è. Ma andare a caccia di un giocatore importante per stroncargli le gambe, per poi così la partita la vince. Questa è premeditazione. Hai capito, caro Presidente degli arbitri? Quindi sei obbligato a istruirli i tuoi arbitri. Perché altrimenti la domenica è chiaro che un giocatore importante si ferma perché dice che devo fare qua. Ogni palla è una zampata. E Leo che ha giocato con giocatori importanti lo sa, la conosce la verità. È veramente uno schifo. perché purtroppo c'è quel 10% di calciatori che non potrebbero giocare né in eccellenza, né in promozione, né in prima categoria. In nessuna categoria che si alza la mattina per fare la giornata. Ma la giornata valla a casa tua, deficiente. Leonardo, è difficile dire qualcosa dopo questo show. E porco Giulio, ma non si può vedere. Tutte le domeniche assisto a queste partite. Botte su botte, però nullo. Peluso, vent'anni. Adesso mi vengono i bartoccini. Adesso faccio dei nomi. Tra cui anche Gabriele. È una cosa allucinante, vergognoso. Diciamo che nel calcio questo succede, parte anche integrante del calcio. A volte di chi ne è buono? Non serve... Sì, a volte sì, ma se vai a alti livelli anche Sergio Ramos in finale di Champions non si è fatto la caccia all'uomo. E non è stato espulso, in effetti. Quindi questo atteggiamento è ancora più evidente in queste categorie nostre. Ci sono giocatori che fanno questo tipo di calcio. Giocatori con la quale io vorrei giocare, sinceramente, ma che non vorrei incontrare da avversario. Io ho giocato con giocatori importanti, ho giocato anche con giocatori che è un po' la loro qualità, quella di nervosire il giocatore più importante, che è un po' quello di stuzzicarlo. Leonardo, il nervosire è un conto. Entrare proprio per rompere la gamba e dire... Quello non è sport, quello non è sport, come non sarebbe sport nel basket. No, perché dopo mi vengono a dire chiedo scusa. Ma che chiedi scusa? Io se succede una cosa, io ti vengo a cercare, ti sparo sulle gambe. Il limite... Eh sì, è un modo di dire. Il limite, diciamo, sta un po'... È una pistola salve, è una pistola salve. A me la cattiveria piace, ma deve essere la cattiveria agonistica, nel senso che deve essere una cattiveria nel cercare di andare a prendere il pallone o cercare di fare un intervento che comunque non vada a implicare la salute fisica dell'avversario fondamentalmente. Anche perché tu lo sai bene quanto è dura puoi rimanere fuori dal campo. No, poi lui... Sì, sì, assolutamente. Anch'io le prendo parecchie. Adesso essendo... Se volevo di questo, Leo fa un gioco, io ce l'ho avuto, fa un gioco, che è uno di quelli che recupera tanti palloni, contrasti, ma le botte che prendeva ogni fine partita dal dottore a curarlo. Il lunedì a fare la teca, a fare... Ti ricordi, Leo? Perché ci sono purtroppo questa gente che il calcio... Io adesso ho usato una parola forte per far capire quanto sono incazzato, perché non è possibile... Ma si è capito, eh? Che tutte le domeniche quelli bravi mi chiamano e mi dicono oh, facci tutelare. No, volevo anche da squadroni una opinione vista da dietro, perché lui sta in porta. Io sono d'accordo nel senso che comunque ci sono giocatori che nervosiscono le partite e mirano solo a fare male all'avversario. E anche al portiere. E anche al portiere. Anche se nel suo caso guardate che fisico. Sì, però anche lui prende le zampate, non ti preoccupare. Sì, sì, succede spesso, il calcio è anche questo, però ecco, magari ci sono partite in cui un semplice contatto di gioco si viene a scatenare magari qualcosa, una mischia, un parapiglia. E quindi... E molte volte succede che quando non si può... Non è facile anche per noi giocatori perché poi io sono il primo a nervosirmi. Quando vedo giocatori che... Bravo. Perché molti dove non ci arrivano sul piano tecnico la mettono decisamente su quel piano. Bravo. Ma succede anche a livello giovanile. Bravo, Fabio. Io con la rabbia mi sono espresso con un certo... Con un certo, diciamo... Enfasi. Enfasi. E magari molto pittoresco, diceva una volta un comico. Tu invece l'hai detto con molta saggezza e tranquillità. Però la cosa... Quindi, è chiaro che il risultato di ieri c'è stava la sconfitta della Trasimeno. Perché avevano capito a chi dovevano picchiare. Certo, non vanno mica da Gibis a picchiarlo. Perché Gibis poi piglia otto giornate dove fa così a tutti e due. Tra l'altro voglio salutare Dante, il grande Dante Squadroni. Salutiamolo tutti perché è un amico, una persona che ci è sempre stata vicino e continua a starci vicino. Certo, certo. Quindi lo salutiamo molto volentieri. Allora, però adesso in combo nei servizi perché dobbiamo andare nel Gironia. Abbiamo due servizi. Partiamo proprio dalla gara di Mugnano cade il fortino del Mugnano ad opera della solita Tiferno 1919 che quando non segna pica c'è Mencarelli. Com'è successo ieri? Per la decima giornata del campionato di promozione al comunale Mosconi-Mugnano si affrontano Mugnano-Tiferno 1919. La terna arbitrale è composta dal fischietto che caglì nella sezione Perugia con i due assistenti nella sezione di Foligno Bacci e Castellani. La scuola di casa viene in un pesante 4-0 subito sul campo della Trasimeno e si trova a due punti della zona dei play-out mentre la Tiferno viene da un buonissimo 2-0 ai danni della Castiglionese Macchie. La squadra ospita attualmente occupa la prima posizione e possiede il miglior attacco del campionato con 20 serreti con 14 gol di Salvatore Pica che guida la classifica a marcatori. La partita si accende subito al 10 minuto con un'entrata scomposta di Giacchettini e la Tiferno ai danni di Cosci del Mugnano il quale lascerà il campo al 16esimo per Cappelloni Simone. La cui imporia sensazione è quella che la partita sia subito sfuggita all'arbitro e che le due squadre siano entrate in un clima al limite dell'agonismo. Al 26esimo la prima occasione è per la Tiferno con Bruschi che dalla testa si inventa un dribbling che termina con un tiro con un cross alla sua terra che nessun compagno riesce a deviare in rete la parla o termina in fallo laterale. Al 32esimo ragisce il Mugnano con una posizione di destra dietro che scalcia bene ma poi centrale. Al 34esimo si rifà avanti a Tiferno con una rimessa laterale lavorata bene da Pica che effetta una bellissima sponda per Fattorini che controlla e concura il volo. Lucarelli è bravissimo a deviare in corner. Nel secondo tempo la partita già si scalda e si riaccende subito al terzo minuto con un altro scontro di gioco molto duro tra i due numeri undici Giacchettini e Broccoletti del Mugnano. In questa occasione il Mugnano perde un altro giocatore per infortunio. Al 13esimo la Tiferno sfiora il vantaggio con Fattorini che riceve un bellissimo passaggio di Giacchettini dribbla gli avversari e si trova uno contro uno contro il portiere ma spara incredibilmente alto sopra la traversa. Al 17esimo la Tiferno sblocca la partita con un aerogol di Mencarelli che dalla 3-4 riceve la parra direttamente tra calcio d'angolo battuto da Fattorini. Il terzino spara un siluro diretto all'incrocio dei pari Lucarelli non ci sarebbe ma potuto arrivare. Al 31esimo la Tiferno sfiora addirittura la doppia con Fattorini che dalla sinistra pesca bene il movimento di Picaner di rigore. L'attaccante è bravo a sfuggire a Mongo ma non altrettanto con quello importa e spara alto. Al 33esimo la partita si nervosisce ancora di più di quello che era già con l'espulsione di Mongo per doppia munizione. Il Mugnano rimane in 10 ma comunque sia sembra che ci siano stati altri falli prima da sanzionare e non questo. Il Mugnano però gioca con il cuore e al 44esimo sfiora il pareggio con Etobo che stacca bene i testa sul calcio d'angolo di Mercanti. Il portiere Giunti compie un vero e proprio miracolo e salva la propria squadra. La partita accesissima termina 1-0 così per la Tiferno in un clima rovente con grandi proteste della squadra e del pubblico verso Terna arbitrale. Detto questo la Tiferno porta a casa tre punti importantissimi in un campo molto difficile. Sapevamo di venire su questo campo e che sarebbe stata dura viste le quattro partite loro in casa e tutte vittorie quindi sapevamo che il campo era difficile ci siamo rimboccati le maniche e sapevamo appunto che la partita si poteva giocare poco quindi l'abbiamo messa sull'agonismo come l'hanno messa loro e alla fine l'abbiamo spuntata secondo me meritatamente per le occasioni avute. Assolutamente sì una partita combattuta da ambo le parti chiaramente la qualità della Tiferno è sotto gli occhi di tutti e la classifica chiaramente ne è la testimonianza poi io oggettivamente alla squadra come già è stato fatto all'interno dello spogliatoio appena finita la partita non ho potuto fare altro che complimentarmi con loro per l'atteggiamento per il cuore per l'abnegazione che hanno messo in campo Il servizio era di Michele Menicucci che naturalmente ringraziamo e allora portiamoci invece all'anticipo secondo me un altro grande risultato di una squadra che all'inizio era partita in maniera altalenante ma che adesso sta dando una continuità di risultati impressionanti parlo del Marra San Feliciano che ha liquidato pensate con un 3-0 casalingo il Selcinardi di Mr. Barontini Continua lo straordinario momento di condizione e di risultati del Marra San Feliciano impegnato nel campo del Selcinardi Vittoria Netta quella della squadra ospite in una gara diretta dal signor Marcaccioli dunque alla fine Bartoccini e compagni possono esultare primo tempo equilibrato con l'occasione per il Selci al secondo minuto poi sono ancora i padroni di casa al diciottesimo che vanno vicini alle gol mancano un po' tutti la deviazione finale sull'altro fronte però non sta certo a guardare il Marra anche qui palla che sibila sul palo attraversa tutto lo specchio da porta e nessuno è pronto a metterla in rete ferma tutto l'arbitro Marcaccioli per una presunta posizione di fuorigioco la risposta è con questo colpo di testa la squadra ospite con Miccio la palla termina pochissimo fuori dal specchio della porta poi è il portiere Boncompagni che abbranca il pallone in presa buon momento per il Marra Sanfeggiaro qui ping pong fra i difensori della squadra di casa per fortuna si salva mister Barontini dalla capitolazione con le immagini andiamo alla ripresa dove succede praticamente tutto perché già al quinto minuto il Marra si rende pericoloso con il pallone che arriva alle limite dell'aria il tiro però è troppo lento para facile Boncompagni azione del Selci cross da sinistra il colpo di testa botta sicura da parte del del giocatore di casa il pallone che si alza sopra alla traversa ma arriva il vantaggio degli ospiti al dodicesimo è con questo grandissimo tiro che il Marra passa in vantaggio tiro davvero da manuale il pallone che si infila in rete dunque il gol di Gabriele Siena è l'occasione del raddoppio buona per Bartocini che perde però il contatto col pallone e al quarantunesimo arriva il contestatissimo calcio di rigore che dà il doppio vantaggio alla squadra di casa c'è un fallo l'arbitro arriva già non erano per nulla contenti dalla concessione della posizione figuriamoci del calcio di rigore Marcaccioli indica il dischetto va proprio alla battuta Samuele Bartocini e segna al quarantunesimo il gol del 2 a 0 mettendo praticamente in ghiaccio il risultato per mister Falchi arriva però anche la terza rete azione in contropiede ormai il Selci perde le staffe ed è Poggioni che trasforma l'occasione per il 3 a 0 che è anche il risultato finale abbiamo fatto una bella gara su un campo difficile e ce la siamo cavate molto bene abbiamo portato un buon risultato che ci serviva per il campionato e volevo fare complimenti anche a tutta la squadra e anche un in bocca al lupo agli avversari Sì è stata una partita al primo tempo molto equilibrata molto anche chiusa due squadre che non hanno rischiato niente 0 a 0 poi il secondo tempo per un quarto d'ora e venti minuti siamo rientrati bene in campo col predominio del gioco abbiamo avuto una bella occasione con Piccini di testa poi c'è stato l'episodio del 1 a 0 che non vorrei commentare perché non vorrei dire cose spiacevoli e l'episodio ha girato la partita poi chiaramente il Marra ha dei giocatori che negli spazi sono molto rapidi sono bravi e è finita 3 a 0 quindi una partita che fino a metà del secondo tempo era tranquillamente da 0 a 0 anzi ripeto con un po' di predominio nostro nella ripresa ma che è girata su un episodio particolare e dopo negli spazi sono arrivati altri due gol quindi dispiace perché è una partita che potevamo tranquillamente quantomeno chiudere insomma in pareggio invece siamo qui a commentare un 3 a 0 Giacomo e completiamo questo girone e poi andiamo il pianello l'hai detto? non ho parlato del pianello il pianello che è andato a vincere a Castiglione a casa del diavolo scusami è andato a vincere a casa del diavolo un altro gol di Boschetti quindi un ottimo un grande risultato poi volevo dire è già iniziato il calciomercato perché Bistoni da Trasimeno il difensore Andrea Bistoni è passato alla Castiglione Semacchia ieri è così Bistoni? sì perché no 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 sono contento come avete detto allora vi do una dritta perché purtroppo molti non lo sanno ma io se Fabio mi dice che sono esperto perché chi è un prestito un giocatore che è in prestito deve rientrare entro il 30 novembre dal prestito per poi poterlo ricollocare questo giocatore non giocava quindi la società invece che in origine che era proprietario del cartellino l'ha richiamato e quindi e quindi lui gli era potuto giocare è arrivato venerdì e gli era giocato capito questa è un'altra delle scusami stronzate che esistono nel regolamento della federazione io so che se non giocano nelle prime quattro partite ufficiali no quella è un'altra cosa ma tu devi mandare la raccomandata e tutto no qui se un giocatore io lo do in prestito ah su questo mi trovo in preparato vabbè io ci sto apposta no è dentro il 30 novembre il giocatore può essere richiamato anzi deve essere richiamato per poi ridarlo via tu pensi che regolamento è un prestito però anche a mercato chiuso anche a mercato chiuso questo questo è abbiamo scoperto è bene che lo sappiate perché se ci avete qualche giocatore tu lo sapevi Stefano no sinceramente no stavolta ci hai dato una lezione a tutti no non ho dato una lezione so qui perché facciamo squadra siamo qui per quello eh siamo qui per quello bravo ecco quindi occhio se qualcuno ha qualche giocatore in prestito state attenti entro dovete farlo altrimenti pagate caro pagate caro con punti di penalizzazione che poi non è più ricollocabile il giocatore no ma non solo ma non solo non è più ricollocabile rimane a spasso ma loro rischiano anche ma deve farlo deve farlo deve essere fatto se tu vai a vedere sulla formazione della Castiglione Semacchia c'è Andrea Bistoni certo va bene allora io direi di voltare pagi diciamo che sottolineerei anche altre due situazioni intanto quella della Pietro Lunghese che è andata a vincere in casa con Ventinella che non si sa che pesce che insomma rispetto alle alle voglie diciamo estive si sta dimostrando una sorta di chiamiamolo fallimento magari è una parola un po' grande però insomma la distanza dalle prime posizioni è abbastanza notevole deve rapporti con altra gente io che gli devo fare si vede che sono contenti così e poi anche il bel momento del Tavernelle che ha infilato se non sbaglio la terza vittoria di fila e si trova in zona playoff allora già che ci siamo diciamo nel primo punto del Corciano in questo campionato si è vero hai ragione dopo dieci partite era anche ora anche perché se l'aspettavano che noi qualcosa dobbiamo dire no dopo dieci tra l'altro preso in un campo è vero che la Castiglise Macchia come diceva qualcuno forse tu la settimana scorsa in casa non è una squadra non è una squadra che va benissimo però insomma ha giocatori importanti ha messo in crisi grandi squadre poi vinceva pure vinceva con gol del solito poi si è rinforzata anche con questo difensore si è anche rinforzata è andata a paleggiare bel risultato davvero del Corciano del Corciano ottimo sarà dura comunque perché i punti dalla zona salvezza mi sembra che siano nove attualmente ma guarda su quello io qualche speranza ancora gliela do mentre invece per il primo posto ormai è della Tiferno quindi presidente avvocato non dire hai gufato io ti dico la verità ormai hai vinto il campionato perché il passo falso di ieri della Trasimeno ha pregiudicato tutto complimenti al Branca che avete capito come vincere la partita non organizzando tatticamente ma andando a picchiare a fermare il giocatore più forte bravi complimenti naturalmente ci aspettiamo una replica ma c'è poco da replicare c'è poco da replicare dobbiamo essere a 360 gradi corretti naturalmente c'è poco da replicare è un po' da quando c'è il calcio che si cerca di fermare quello che viene considerato beh io mi ricordo Maradona c'era una caccia all'uomo ascolta il fine giustifica i mezzi quindi bravi complimenti la mia è soltanto una constatazione è un'affermazione dove dico che ormai ha vinto il campionato latiferno perché ieri il passo falso della 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 Trasimeno ormai ha pregiudicato tutto ormai ormai l'ha vinto ma che ci vogliamo scherzare sopra beh certo dieci punti sono tanti anche il passo falso del casa del diavolo che comunque è una delle scelte poi ha combaciato è una caccia a cambiare la squadra dal secondo posto a fare gli avvicinamenti per cui anche perché tanto la prima non sbaglia quindi però attenzione è giusto Stefano hai detto una cosa mi hai dato spunto se nella serie D nessuno retrocede come io sono sicuro né Cannara né Bastia no perché il campionato è scadente l'ho visto anche sabato per carità ne lasciamo perdere quindi queste tre si salveranno a quel punto può essere a quel punto la seconda può andare in eccellenza tranquillamente quindi non vi arrendete ci dovrebbero essere quattro promozioni sì quindi casa del diavolo Trasimeno quello che è non vi arrendete perché ancora c'è il secondo posto allora noi adesso invece dobbiamo voltare pagina andiamo al girone B perché c'è poi il nostro ospite il portiere della MC98 che sta andando a gonfie vele prima risultati e classifico Merina Nestor 0 a 1 Giove Petrignano 1 a 2 Gualdo Casacastalla Campitello 5 a 1 Giulia Spello MC98 0 a 3 Montefranco Pila 2 a 0 Nuova Gualdo Bastardo Limpiatirus 2 a 2 Terni Est Monte Castello Vibio 1 a 3 Viole San Venanzo 2 a 0 in testa nella classifica c'è la Nestor con 26 punti segue il Gualdo Casacastalla e la Campitello con 23 AMC98 19 San Venanzo 17 Olimpiatirus 16 Amerina 15 Monte Franco 13 Petrignano e Viole 12 Pila e Giove 10 Nuova Gualdo Bastardo 9 Monte Castello Vibio 8 Giulia Spello 7 chiudi la classifica Alterni Est con 3 punti e c'è una nuova capolista in questo girone che è la Nestor che è in testa con 26 punti davanti alla coppia Gualdo Casacastalla Campitello e poi ecco che arriva la MC98 del portiere squadroni ieri vittoria senza discussioni tra poco lo vedremo vittoria meritata ieri una partita vinta giocando a calcio giocando bene e su un campo tra l'altro difficile perché ce l'ha il fazzoletto per Baiani perché lui gli è dispiaciuto molto mi dispiace per lui è su un campo difficile perché lo spero comunque è una squadra che ha preso pochi gol fino adesso noi abbiamo vinto abbiamo giocato bene non abbiamo rischiato niente e testa domenica prossima che arriva il Gualdo Casa Castalda e se noi vogliamo dare un senso un altro senso al campionato è una partita che bisognerà vincere quindi vediamo mi sembra che tutti stiano facendo il giochino della Nestor francamente perché una volta vorrei ma non posso il Gualdo prima spreca il doppio vantaggio poi voi un periodo che ci avete avuto un po' nero il Campitello è partito benissimo adesso arranca e la Nestor invece mi sembra la squadra più continua che ne dici? ma guarda sicuramente il campionato è equilibrato secondo me le partite ecco gli vince chi sbaglia di meno e i campionati si vincono anche così nel senso che noi fortunatamente dopo ogni sconfitta reagiamo sempre alla grande avete un allenatore bravo molto bravo tutti lo riconoscono è bravissimo che è Montechiani Enzo Montechiani abbiamo fatto una battuta su Leonardo che la falla anche su squadroni mettiamola anche su squadroni inquadratolo per favore volevo dire ai telespettatori solo oggi per noi in questa occasione si è fatto questo look perché non è che lui va in giro con questi capelli ti rispondo subito ma noi parliamo per invidia non lo tengo così perché mio figlio ci si addormenta quindi non ne posso tagliare ma come un figlio quanti anni hai scusa 29 ah andavo da più pensavo c'hai 20 anni 22 allora va bene comunque ho voluto ti ha fatto un complimento grazie comunque parlo per invidia andiamo allora a Spello a vederci questa vittoria per 3 a 0 della MC 98 diciamo trascinata da un Tavoloni in condizioni strepitose e da un terzino che poi ha dimostrato tutto il suo valore tecnico via al servizio a Spello si gioca la gara valida per il campionato di promozione girone B tra la Giulia Spello Torre e la MC 98 andiamo all'immagine dell'incontro che fa vedere subito una conclusione alta da parte della MC 98 che poi ci prova ancora con Tavoloni al limite dell'area Tavoloni protesta per un presunto fallo subito poi se la prende anche con Tordoni discutono i due l'arbitro dice però che si può proseguire l'arbitro il signor Pieretti di Perugia prova un tiro di alleggerimento tutt'altro che trascendentale la Giulia Spello con il pallone che finisce sul fondo ancora Tavoloni ad organizzare l'azione per la MC 98 un bel lancio in profondità la conclusione di anullo classe 2000 è parata dal portiere Lolli ancora gli ospiti Terzino in possesso di palla lancio in area di rigore per Tavoloni che infila ma l'arbitro dice che è tutto fermo su segnalazione delle guardalinee posizione irregolare e il risultato rimane sullo 0 a 0 allora lo scampato pericolo galvanizza un Pola e Giulia Spello che ci prova con Andrè Ongamanga ma il suo colpo di testa è totalmente impreciso sull'altro fronte la palla spiove in aria c'è un batti-ribatti poi Terzino sta per intervenire interviene invece con un grande lob di controbalzo Ramadani che infila al 38esimo il vantaggio del AMC 98 sulle finire di tempo colpo di testa che si ritrova tranquillamente tra le mani il portiere squadroni e con le immagini così andiamo sulle finire del tempo e dunque al secondo tempo di questa partita che inizia con questa azione sul settore destro il cross al centro ancora Ongamanga prova lo stacco respinge squadroni poi è bravissimo in un doppio intervento ad esibirsi sulla conclusione di Mancinelli sull'altro fronte sempre protagonisti Tavoloni e Terzino la palla in dietro ancora proprio per quest'ultimo che lascia partire un cross sul secondo palo solo Soletto Manni è al nono minuto già messa praticamente in ghiacciaia la partita per la MC98 di Enzo Montechiani 2 a 0 dunque per gli ospiti prova a scuotersi la Giulia Spello con questo sinistro il pallone se ne va sul fondo ma sono ancora gli ospiti pericolosissimi con Tavoloni che fa le prove generali del terzo gol la palla fa solo la barba alla traversa poi l'ingenuità rinvio troppo corto da parte del portiere gran colpo di classe di Tavoloni per Senzini forse partito in posizione irregolare Senzini mette in mezzo doppia ribattuta per Tavoloni ma ancora niente da fare perché il gol non è regolare dice Dennis Pieretti della sezione di Perugia si riprende con un calcio di punizione ma sono ancora gli ospiti ad attaccare con il pallone in mezzo il colpo di testa smanaccia splendidamente Lolli a salvare lo 0 a 2 0 a 2 che però resiste poco prima è Terzino che prova ad incugnarsi in area di rigore serve la palla ancora all'onnipresente Tavoloni grande destro gol a giro bellissimo di pregevolissima fattura della partita è praticamente chiusa 3 a 0 per la MC 98 per i ragazzi di di Acqua Sparta che poi liberano su questa azione e cercano di ripartire in contropiede però l'ultima azione vince la MC 98 3 a 0 sul campo della Giulia Spello un'ottima partita sicuramente siamo partiti molto bene e abbiamo fatto un ottimo primo tempo però non era neanche facile giocare perché lo Spello è una squadra tosta a casa loro però noi l'abbiamo interpretata molto bene perché la sconvitta di domenica scorso ci ha servito un pochettino di lezione e siamo andati in campo determinati e credo che questo risultato diciamo così legittima un pochettino quello che abbiamo fatto in settimana siamo contenti della prestazione fatta abbiamo raccolto tre punti imbottanti e andiamo avanti così no sconfitta forse probabilmente meritata è stata la partita probabilmente più brutta che abbiamo giocato dall'inizio dell'anno anche se diciamo non è che loro hanno avuto tante altre occasioni oltre ai gol però non abbiamo giocato bene non siamo stati squadra come in altre occasioni e loro che sono un'ottima squadra hanno vinto giustamente abbiamo visto Luis Alberto Squadroni il gol di Tavoloni veramente di altissima fattura non si vede spesso in queste categorie sì fortunatamente gli hanno annullati pure due però tecnicamente sono due giocatori veramente forti Tersino e Tavoloni stanno facendo differenza io direi che insieme a Dragoni e qualcun altro anche della Nestor forse un paio del Capitello sono i giocatori più rappresentativi di questo girone sì ci sono molti giocatori bravi secondo me nel girone nostro l'anno scorso sei stato a Massa Martana se non sbaglio camminato di eccellenza col Massa con appendice col brivido sì è stata una bella esperienza quella della Coppa siamo andati per come siamo usciti è stata brutta però bella esperienza sicuramente la porterò tanto avete vinto quella Umbra Coppa Umbra regionale certo è sempre un titolo naturalmente tu lavori sei impegnato nell'attività di famiglia e quindi hai preferito una location più morbida sì per modi lavorativi ecco non posso non darmi più di tanto da casa ecco Massa 5 km acqua sparta quale 5 quindi la domanda che faccio che è più che scontata ma la devo fare a uno con le tue capacità con il tuo fisico insomma ripercorrendo quello che è stato sei contento di quello che hai fatto magari c'è qualche piccolo rimpianto ridi quindi penso che non sarai molto contento la vita non si vive solo di rimpianti ecco diciamo però lo sto prendendo per il verso giusto nel senso che comunque è una passione lo faccio per puro divertimento e sicuramente non per soldi perché e poi quando torni a casa se sbagli c'è Dante che mi è stato sempre vicino anche nei momenti più difficili quando mi sono operato al cuore anche nell'operazione della milsa e due anni fa comunque per il genitore è molto più difficile ma io l'ho superata molto più tranquillamente perché poi sono stato sempre meglio dopo tutto quello che c'è avuto i rimpianti non saprei che dirti guarda sicuramente ma come sempre c'è qualche il senso sono stato fermo da 10 a 16 anni poi ripreso bene o male ripreso bene fino a 20 ho fatto un bel camminato di eccellenza sempre con la M e magari lì quando potevo fare quel saltino in più non mi hanno passato la visita medica però dopo la passione mi ha voluto far sempre provare a giocare non hai mai mollato non ho mai mollato e questo mi sembra tanto sono contento così dai e dove può arrivare invece questa MC98 o dove vuole arrivare perché insomma visto che le capacità ci sono ha lasciato l'eccellenza per provare a riprendere l'ha detto l'ha detto a me prima allora ecco la risposta c'è già la MC98 sicuramente l'obiettivo è quello di salvarsi o di tenere più che altro la zona calda lontana possibile sì perché c'è molto equilibrio in questo girone moltissimo comunque siamo lì siamo quarti la partita di domenica potrà darci qualche indicazione in più però siamo un bel gruppo siamo secondo me una squadra forte quindi sta a noi sta a noi vedere quello che possiamo fare Stefano domenica si affrontano secondo me due degli allenatori più quotati di questo girone Montechiani e l'allenatore del Gualdo riconosciuto da tutti Bazzucchi e non a caso guidano le squadre tra le più quotate del girone è uno scontro che sicuramente in qualche modo però potrebbe favorire la Nestor perché anche se la Nestor ha un impegno casalingo che sulla carta è facile con il Monte Franco però sicuramente AMC e Gualdo sarà una bella sfida tra due squadre in gran forma anche il Gualdo ieri ha dimostrato di essere in grande sporgolo una vittoria pesante su una squadra con la quale condivide le stesse ambizioni immagino di salire di categoria per cui è stata una bella prova di forza e anche un riscatto rispetto al passo falso di sette giorni prima pensate perché il Campitello aveva subito sei gol prima di questa partita e ieri ne ha subiti cinque addirittura in una partita solo a proposito di allenatori e chiudiamo questo girone parlando anche del cambio allenatore che invece non ha sortito effetti quello del Terniest che è stato battuto in casa dal Monte Castello Vivio e chiaramente adesso le possibilità per la squadra ternana si assottigliano anche perché il Terniest andrà a far visita ad un Viole che sembra essere in ripresa ieri ha battuto il San Benanzo che era molto tempo che non perdeva è una seconda vittoria di fila diciamo si sta riprendendo un po' quello che la sfortuna gli aveva tolto nelle prime giornate anche il Pedrignano si sta riproponendo in zone un po' più diciamo consone al valore della squadra credo che il campionato sta riproponendo alcune protagoniste che erano annunciate ecco erano annunciate che avevano avuto qualche momento di difficoltà bene allora io direi che è il momento di fare una pausa ci vediamo tra qualche minuto qui dalla concessionaria Satiri Auto di Trevi nel frattempo vi lasciamo in compagnia della nostra pubblicità a tra poco Satiri Auto showroom dell'automobile dal 1966 vieni a trovarci nelle sedi di Perugia Pontefeccino Gualdo Tadino Gubbio e Trevi Satiri Auto cresce la passione per le quattro ruote Quasar Village Quasar Village è a Corciano Perugia lo shopping village per acquisti tempo libero relax con 60 negozi aree bambini campi sportivi sempre aperto anche la domenica il Quasar Village di Corciano una struttura tra le più complete a livello nazionale e ormai da loro 13 anni il punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero a Perugia Quasar Village lo shopping del futuro e il tuo momento di svago vai su quasarvillage.it e scarica la app del centro non sei riuscita a diplomarti? ma lo vorresti? Vieni all'Istituto San Francesco recupera i anni scolastici e diplomati con Istituto San Francesco per tutti gli indirizzi di studi anche in un anno L'Istituto San Francesco si trova Perugia e Foligno chiama l'800-609-149 Istituto San Francesco lo studente al centro Non sai dove andare a cena? Vieni da Nonno Cencio Ristorante e Pizzeria a Passignano un luogo incantevole con vista lago trovi cortesia qualità e prezzo aperto da lunedì alla domenica offre specialità di carne pesce di lago e di mare e un'ampia scelta di pizze in più la domenica aperto anche a pranzo il ristorante Pizzeria Nonno Cencio lo trovi all'uscita di Passignano La Clinica Liotti per prenotazioni 075-506-8040 Gerlinda al centro delle emozioni In via Pontani 41 a Perugia progetti progetti e realizzi impianti mangimifici e di stoccaggio cereali trasportatori a coclea e a catena elevatori a tazze macchinari accessori ricambistica al servizio del mondo mangimistico e molitorio Cimas si trova in via Val di Rocco 42 zona industriale di Ponte Felcino Perugia chiamaci allo 075-59-18-339 o visita il nostro sito cimasitalia.it dove potrai trovare la vasta gamma di impianti realizzati Cimas custodi di eccellenza da oltre 150 anni A Costano di Bastia Umbra in via Mendola 15 c'è un punto di riferimento per i tuoi lavori d'edilizia da Andrea Ciancabilla infatti troverai forniture e mano d'opera finiture di interni pavimenti parquet bagni porte vernici carta da parati tutto per l'edilizia lo trovi a Costano via Mendola 15 Il centro commerciale Collestrada rappresenta dal 1997 il riferimento principale per le abitudini d'acquisto degli Umbri per lo shopping e il passeggio con oltre 50 negozi negli anni si è arricchito di nuovi servizi per rendere ancora più piacevole e funzionale il momento dello shopping dall'area dedicata alle mamme e i loro bambini i parcheggi rosa il baby parking l'area allattamento e angolo nursery all'ampio parcheggio coperto dai due comodi punti Bancomat l'un ufficio postale aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.45 e il sabato fino alle 13.10 molteplici anche l'offerta di diversi punti ristoro al centro commerciale Collestrada trovi inoltre Collestrada Carburanti il distributore di carburanti ai prezzi più bassi aperto 24 ore con servizio self da cassa automatica ti ricordi l'aesso di Collestrada? all'interno dell'area di servizio trovi Enmey Cafè un posto ideale per potersi fermare in ogni momento della giornata il personale accogliente ti farà gustare abbondanti colazioni ricchi pranzi sfiziosi aperitivi e invitanti cene Enmey Cafè si trova lungo la E45 nell'area di servizio esso eccoci dunque pronti a calarci nel campionato di prima categoria cosa sentiremo anche quando arriviamo al girone C Leonardo Agostini della Vis Foligno allora andiamo subito Marina a risultati classifica del girone A perché poi qui abbiamo un servizio Cerbara Madonna del Latte San Secondo 1-1 FC Castello Carbonesca 1-1 Monte Castelli Puente Pattoli 0-2 Padule San Marco Calzolaro 1-1 Promano Resina 3-1 Tiberi Svaldi Pierle 1-1 Tigrotti Morra Montiacuto 2-1 Virtus San Giustino Pierantonio 2-0 Aprono la classifica con 23 punti FC Castello Pierantonio Segui a 22 Virtus San Giustino Madonna del Latte San Secondo 18 Padule San Marco 17 Tigrotti Morra Monte Acuto 15 Calzolaro 13 Promano 12 Carbonesca 10 Vallipierle Tiveri Seresina 9 Cerbara Monte Castelli 8 Chiudela Castelli Ponte Pattoli con 7 punti Bene allora andiamo dentro con le immagini prima poi di commentare con Stefano Bagliani il girone nella sua complessità anche qui protagonisti annunciati che avanzano e allora andiamoci a vedere il pareggio per 1-1 tra Cerbara e Madonna del Latte ecco le immagini che ci arrivano da Cerbara attesissima questa partita perché il Cerbara è vero che occupa le ultime posizioni in classifica ma è un avversario particolarmente ostico per tutti e allora vediamo queste immagini con il Cerbara che parte forte il cross indietro il bel tiro di prima intenzione la palla però è troppo alta sopra la traversa ma il tentativo è decisamente apprezzabile ancora il Cerbara in area di rigore la bella giocata tra il numero 7 Fatti e Bruschi la conclusione viene parata in due tempi poi c'è una specie di mischia il gol ma il gioco già era fermo in questa gara diretta da Granci di Città di Castello naturalmente essendo poi un derby a tutti gli effetti come molti ce ne sono in questi gironi e dall'altra parte il colpo di testa dove si supera il portiere Morelli per deviare il pallone in angolo dai sviluppi del calcio d'angolo arriva un colpo di testa che però termina alto sopra la trasversale è partita con parecchi botte risposte a questa e allora in uno di questi c'è il sinistro che porta in vantaggio il Cerbara è fatti proprio al 45esimo della ripresa del primo tempo che va a segnare è facile la battuta fatti non parole e così c'è il gol del vantaggio del Cerbara 1-0 dunque per la squadra di casa che poi avrebbe l'opportunità del raddoppio ma stavolta fatti non ci arriva certamente la responsabilità non è sua perché l'appoggio era troppo lungo e l'azione così sfuma si va negli spogliatoi con i padroni di casa in vantaggio per una rete a zero la ripresa si apre dunque con i blu ed è la Madonna del Latte San Secondo che provano a rimettere in piedi la partita allora è Biccheri che si impadronisce del pallone lancia in profondità attento il portiere del Cerbara Morelli a deviare il pallone sul tentativo di incursione del centroavanti ospite ancora il Madonna del Latte lancio bucato un po' da tutti e poi vedete l'arbitro che arriva e concede il calcio di rigore su questo contatto la pochi dubbi il direttore di gara indica subito il dischetto e allora va alla battuta il numero nove della squadra ospite Tadi si fa però ipnotizzare per dire la verità non proprio ma è stata bella la parata del portiere Morelli che devia dunque il pallone quando sembra invece fatto per il risultato arriva questo diagonale messo a segno da pastore al trentanovesimo minuto che regala la rete dell'uno a uno vedete l'esultanza del pubblico di parte Madonna del Latte e anche dei giocatori in campo perché davvero dopo il calcio di rigore sbagliato sembrava impossibile arrivare a questo uno a uno eccolo dunque abbiamo visto queste immagini Stefano un pareggio mi sembra dalle immagini che io non ho visto la partita ma mi sembra che sia un pochino forse leggermente stretto nelle occasioni al Cerbara però certo che il calcio di rigore sbagliato poi riequilibra un po' tutto certo il rigore se lo segna magari ha più tempo per provare a ribaltare completamente il risultato però credo che Cerbara come dicevi tu ha dimostrato di essere comunque in buona ripresa e poi mercoledì ha questo grande recupero con l'FC Castello alle 14.45 a questo proposito c'è stata un po' di polemica diciamo perché il Castello non avrebbe consentito a spostare la sfida in un orario più consono alle possibilità dei dilettanti Girone che appunto ieri ha visto la frenata un po' in attesa diciamo del Castello che ha pareggiato in casa 1 a 1 con il Carbonesca e il rientro abbastanza corposo della Virtus San Giustino che ha ottenuto una bella vittoria contro il Pier Antonio una vittoria che sicuramente rilancia le ambizioni del club giallorosso questo sì ovviamente la Virtus San Giustino è una delle grandi favorite insomma scusate di questo campionato mentre torna la vittoria il Tigrotti Morra vince il Ponte Pattoli sul campo delle Monte Castelli in quella specie di si salvi chi può dell'ultima in classifica adesso il Ponte Pattoli vede tutte le antagoniste addirittura fino al Val di Pierle a soli due punti e che dire 1 a 1 tra Padule San Marco e Calzolaro vittoria invece importante del Promano 3 a 1 sul Resina finisce 1 a 1 anche tra Tiberis e Val di Perle due squadre che proprio non vogliono assolutamente decollare e io dico sempre mi dispiace davvero per la Tiberis che non riesce neppure a tirarsi fuori dalle sabbie mobili dell'ultima del fondo di classifica allora questo per quanto riguarda il girone A adesso andiamo al girone B con risultati e classifiche sentiamo un'opinione in generale da Giacomo Bevilacqua e poi ci portiamo al girone C vai Marina Atletico Bastia Pastignano 0 a 1 Martinea Suoro 1 a 0 Mogliano Magione 0 a 0 Piegario e Rallieruta 1 a 0 Real Vichus Spontevilla 1 a 2 San Nicolo Sant'Arcangelo 0 a 0 Santa Sabina Vismova Alba 1 a 2 Vitellino Mantignana 0 a 3 aprono la classifica con 21 punti Mogliano e Mantignana segue a 19 l'Atletico Bastia Magione Santa Arcangelo e Santa Sabina 15 Bastignano 14 Piegario 13 Real Vichus Bisnoalba e Pontevilla 12 San Nicolo e Tuoro 11 Martinea 9 Real De Ruta 8 e chiudere la classifica il Vitellino con 7 punti Allora Giacomo non lo so non ti ho visto festeggiare il primato del tuo Mantignana veramente stavo dopo non giocava perché l'ha squalificato no io con questa voce suave di Marina mi sono proprio addormentato bravissima Marina sei la numero uno grande Marina però allora hai giusta ragione apprezza che sono venuta hai sempre la 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 battuta pronta brava ma tutte e due mica solo lei tutte e due anche questa l'abbiamo scelta essere donna essere donna vabbè che volevo dire purtroppo il mio pupillo ma non c'era no era squalificato quindi però ha vinto ugualmente 3 a 0 il risultato sorprendente è quello a Santa Sabina che ha perso in casa Santa Sabina e quello è sorprendente con la vis nuova invece un grandissimo risultato io ieri sera ho visto la partita della Juve con il Milan sono passato un attimo a salutare i miei amici perugini Federico tu non c'eri ti volevo fare i complimenti c'era Stefano ti volevo dire grande risultato perché andare a ottenere un punto contro la capolista non è ha fatto giustizia il Magione perché aveva fermato sullo 0 a 0 prima l'Atletic Bastia adesso la stessa sorte ha rifilato al Moiano quindi bravo Federico continua così ieri sera ho visto che c'erano tanta gente che ti festeggiava fra donne e uomini tanti ragazzi quindi mi ha fatto piacere che ti stimano a Magione ti apprezzano quindi bravo bravo Federico a proposito di Atletic Bastia la parte del Leone l'ha fatta il Passignano che ieri è andata a battere 1 a 0 proprio l'Atletic Bastia in casa adesso si propone addirittura in zona playoff anche questo è un altro risultato sorprendente Fabio molto sì però questo è all'insegna di un campionato un po' non proprio come si dice un campionato dove l'equilibrio a questo punto regna perché non mi pare in tutta la prima categoria in generale ma questo campionato in particolar modo ogni domenica c'è qualcosa di nuovo però il 3 a 0 del Mantignana anche senza ma non vorrei che Cenerini l'ha fatta apposta fasse buttare fuori adesso tra l'altro un'altra sconfitta per la Real Virtus stavolta ad opera del Pontevilla è la Real Virtus che aveva riconfermato il tecnico Birribao adesso non so se la società magari ripenserà a questa eventualità mentre torna alla vittoria anche il Piegaro per 1 a 0 ai danni del Real Deruta dicevi tu Giacomo la bella affermazione della Vis Nuova Alba 2 a 1 a Santa Sabina allora a questo punto direi di passare al girone C così oltre ai servizi sentiremo anche Leonardo Agostini Bevagna San Luca 7 a 0 BM8 Spoleto Clituno 0 a 2 Cascia Trevi 2 a 0 Grifo Sigillo Atletico Guardo Fossato 0 a 0 Norcia 4 Castelli Valnerina 1 a 1 Superga 48 Grifo Cannara 4 a 0 Virtus Foligno Palazzo 2 a 0 Vis Foligno Circueto 0 a 2 Apri la Cassa di Chil Bevagna con 24 punti Segue a 23 Lavi Foligno Clituno Virtus Foligno 20 BM8 Spoleto 19 Circueto 17 Cascia e Grifo Sigillo 14 Superga 48 13 punti 4 Castelli Valnerina e Palazzo 11 Atletico Guaglio Fossato 8 Norcia e San Luca 7 Grifo Cannara 6 e chiude la Cassa di Chil Trevi con 3 punti bene allora ieri Leonardo Agostini non ha giocato la vista da spettatore la partita allora Leonardo rinfreschiamoci le idee andiamo a vedere subito il servizio di questa sconfitta secondo me anche sorprendente della Vis Foligno in casa ad opera del cerqueto per 2 a 0 Bella giornata di sole allo stadio Blasone di Foligno stadio che accoglie in perfette condizioni la Vis Foligno padrona di casa capolista e il cerqueto calcio in una gara diretta dall'arbitro Alessandro Galli della sezione di Perugia si affrontano le squadre dei mister Mingarelli e Brunetti alla fine uscirà un risultato a sorpresa nel senso che sarà il cerqueto a battere per 2 a 0 la formazione di casa della Vis Foligno in maglia gialla mentre il cerqueto risponde con la tenuta nera già dopo 4 minuti andremo a vedere tra poco sono gli ospiti a farsi vedere pericolosi con questa azione che parte dalle retrovie lungo lancio in profondità il cross da parte del numero 11 levato in mezzo smanaccia in due tempi abbranca il pallone a terra il portiere Pioli comincia a creare gioco e occasioni la squadra di casa peraltro facilitata anche da questo rinvio del portiere il colpo di testa poi il pallone raccolto per una bella imbucata ma vedete si presenta solo davanti al portiere il numero 11 Tomassetti ma si fa ipnotizzare bravissimo Santini ad evitare la capitolazione al 33esimo nuovamente il pallone di casa pericolosi con un'azione ancora di Santini il tiro alto anzi si trattava di Baliani che alza la sfera sopra la traversa 34esimo quindi un minuto dopo ancora la Vis Foligno il tiro smanaccia bene Santini in angolo sugli sviluppi del calcio d'angolo la palla arriva al limite dell'area la conclusione che per poco non ne centra lo specchio della porta da parte di Acciaresi sull'altro fronte si fa rivedere al 45esimo il cerqueto è Tirpanella che mette in mezzo c'è una respinta della difesa poi la palla carambola addosso ad un giocatore del cerqueto sembra azione finita invece Levato mette al centro ne approfitta Parlanti che di testa deposita in rete dunque gol del numero 8 complimenti a Levato per aver creduto fino alla fine alla possibilità di questa segnatura con le immagini andiamo al secondo tempo che si chiude che si apre con gli ospiti in vantaggio per 1-0 colpo di testa pericoloso proprio dei ospiti in maglia nera al nono minuto palla che sfiora il palo ma un minuto più tardi c'è questo tiro dal limite dell'area sul quale il portiere sembra in tuffo plastico più che in una parata risolutiva errore clamoroso intanto dalla battuta di un calcio di punizione al ventesimo nasce questo contropede il solito Levato che lo fa partire poi il lungo lancio per il numero 9 del cerqueto in area di rigore bravo stavolta Pioli ad intercettare ma non può nulla sulla ribattuta di Levato davvero un giocatore importante per la categoria al ventitresimo dunque 2-0 per il cerqueto si butta a capofitto nell'area di rigore la squadra di casa allora c'è Palumbo che recupera un pallone mette in mezzo poi il tiro è bravo molto bravo ancora Santini a deviare il pallone in angolo al trentasettesimo è la Vis Foligno a rimanere in 10 uomini l'arbitro arriva non so se il giocatore ha detto qualcosa al direttore di gara fatto sta che il centrale difensivo della Vis Foligno viene espulso irremovibile il signor Galli di Perugia per questo cartellino rosso su calcio di punizione al quarantaquattresimo il cerqueto stiore il palo l'ultima occasione l'ennesima parata di Santini vince dunque il cerqueto per 2 a 0 sulla Vis Foligno che subisce un bruxco stop si il primo tempo abbiamo un po' diciamo tenuto ecco in difesa abbiamo sbloccato proprio alla fine del primo tempo e ci ha permesso ecco il secondo tempo di fare una partita diciamo di ripartenza quindi sfruttando anche le nostre le qualità quindi davanti e abbiamo fatto diciamo il secondo gol ecco ci ha dato ci ha permesso ecco di difenderci bene con poca ecco poca sofferenza al secondo tempo ci hanno più pressato e noi erano un po' più in difficoltà poi è stata la fortuna anche un po' del far il gol alla fine del primo tempo e ci ha dato poi più libertà nel secondo tempo la partita ecco è una bellissima squadra in fisse comunque sia perché sia tecnicamente che tatticamente messi bene quindi abbiamo fatto una grande vittoria con una squadra molto forte ci siamo presentati a questa partita come sempre per cercare di fare il nostro gioco di imporre le nostre situazioni tattiche in campo per cercare di provare a vincere questa partita come abbiamo provato anche a vincere tutte le altre partite precedenti molto spesso ci siamo riusciti oggi facciamo i complimenti alla squadra del cerquetto del mio amico Daniele Brunetti perché hanno saputo imbrigliare la nostra tattica di gioco siamo stati colpiti alla fine del primo tempo e questo indubbiamente è stato un vantaggio per loro è stato uno svantaggio per noi precedentemente avevamo avuto qualche bella occasione con qualche parata ottima del portiere loro qualche occasione magari non finalizzata nel modo migliore da qualche mio giocatore poi nel secondo tempo la partita si è aperta molto di più siamo stati costretti a sbilanciare in avanti il nostro paricentro siamo stati colpiti in contropiede in qualche occasione in una delle quali hanno fatto il secondo gol che praticamente ha chiuso la partita però voglio fare i complimenti ai miei ragazzi perché nonostante le nostre innumerevoli assenze ci siamo comportati bene esprimendo un buon gioco a tratti e facendo anche una bella partita siamo rammaricati per il risultato siamo rammaricati anche per un atteggiamento arbitrale che non è stato all'altezza della situazione io non so quanto possa aver inciso ma indubbiamente l'arbitro è stato spesso incerto indeciso sugli episodi probabilmente anche dall'una e dall'altra parte non è che ci abbia tolto chissà che cosa però un arbitraggio assolutamente non abbiamo condiviso perché è mancato di esperienza e di personalità non è una giustificazione è soltanto uno sfogo che facciamo visto che molte altre volte sento tante altre società che si sfogano da questo punto di vista comunque riprenderemo il nostro cammino avremo domenica prossima l'occasione di battere la neocapolista Bevagna abbiamo uno scontro diretto con loro per poter cercare di tornare primi in classifica allora mi sembra che le intenzioni Leonardo l'ha dette il tuo allenatore si punta tutto su questa partita contro il Bevagna a questo punto sì diciamo che è una partita importante come lo sono tutte perché poi se l'obiettivo è quello di vincere il campionato comunque tra le prime posizioni sono tutte importanti tutte le domeniche valgono tre punti e quindi diciamo che poi alla fine è la squadra che ha più continuità che andrà a vincere il campionato però ci sono delle partite che all'interno della stagione sono quasi delle finali ce ne sono quelle cinque barra sei finali importanti è una partita che arriva nel momento in cui abbiamo perso per la prima volta in questo campionato è una partita che ce la giocheremo tranquillamente alla grande con la serenità e il gioco che ci ha sempre contraddistinto quindi la prepareremo con serenità con tranquillità nel migliore dei modi sono sicuro di questo mi viene da dire quel gioco che ieri ha fatto fare i miracoli a Santini il portiere del cerquetto è davvero notevole perché a livello di occasioni non avete fatto male ieri sì innanzitutto da fare complimenti al portiere perché ha fatto una partita incredibile secondo me anche di un'altra categoria proprio anche come rinviava è veramente un ottimo giocatore la Vista ha una propria identità di gioco che in queste categorie è difficile da vedere purtroppo ho visto molte partite dall'alto quest'anno diverse partite a causa del mio infortunio e ho avuto la fortuna di apprezzare da fuori quello che è un'identità precisa un gioco che diverte che poi porta anche i suoi frutti magari bisogna migliorare nella fase realizzativa come si è visto nel primo tempo magari ci sono state due o tre occasioni che magari se riusciamo a mandare in vantaggio la partita avrebbe avuto un'altra storia però questi sono episodi inutile stare a parlare di questo bisogna continuare così senza perdere questo entusiasmo e questa voglia di giocare al calcio che poi è quello che ci porterà a fare i risultati quindi è una squadra costruita per questo una squadra tecnica una squadra che ha le idee precise che cerchiamo un attimino di essere una mosca bianca in questo campionato o perlomeno siamo una delle squadre che gioca meglio nella speranza che poi il bel gioco porterà i suoi frutti ma sono convinto di questo beh ci vorrà una grande prova difensiva poi ti lascio a gioco perché il Bevagna ha realizzato 30 reti in questo campionato fino ad adesso sono tante e d'altra parte il solo è Dardari in ha messa segno 13 sì conosco bene Dardari conosco bene anche i giocatori del Bevagna stanno facendo benissimo è un campionato equilibrato domenica domenica servirà a fare una grossa prova difensiva senza Ciarresi che è stato espulso ma sono sicuro che il mister Mingarelli riuscirà a inventarsi qualcosa solitamente quando deve essere creativo e in questa fase del campionato ci riesce ci riesce sono convinto di questo sono ottimista Giacomo io non voglio parlare di calcio con Leonardo però voglio dire una cosa come prima non ho esitato ad accusare a dire a chiedere una certa protezione per certi giocatori sono pronto a dire che questo è un giocatore è l'esempio del classico giocatore serio professionale professionista importante ve lo dico perché lui è del classe 1993 dico bene io l'ho conosciuto quando era un fuori quota un ragazzo che al di là delle sue grandi qualità tecniche ma anche come uomo perché tra l'altro tu sei anche laureato io mi ricordo quando ero con te tu ti stavi frequentavi l'università quindi me lo ricordo perfettamente hai finito sì spero no non ho finito lavoro adesso lavoro però quello che mi fa rabbia di te Leo perché un giocatore come te un uomo come te perché sei un ragazzo del 93 ma sei anche un uomo posato io mi ricordo anche nello spogliatoio eri uno di quelli carismatici più seri più equilibrati ha deciso di andare a giocare con tutto il rispetto in prima categoria perché tu ancora puoi giocare anche in serie D perché hai grande qualità lì in mezzo al campo giocatori come te non ci sono ancora io li sto a cercare ancora e pensare che all'inizio non è che mi piacevi molto quando ti vedi la prima volta avevi quella avevi questa era la garanzia che eri forte no aspetta aveva no perché questo significa che mai giudicare dalla prima volta aveva quella quel passo da sornione vero o no sbaglio però ci arrivava sempre ci arrivava sempre un po' come Trinchesi oggi il figlio del dottor Trinchesi di Ermanno ciao Ermanno a parte questo perché tu oggi sei in questa categoria me lo spieghi il perché perché molti si chiederanno sì ma fai dare la risposta perché se no ecco dica dimmi allora innanzitutto ti ringrazio per i complimenti non so complimenti è la verità è la verità ok perché nel senso ci saranno mille motivazioni non vorrei annoiare nessuno quest'anno ho fatto una scelta l'anno scorso era a Foligno ah ma quest'anno sì l'anno scorso ero in promozione quest'anno sono tornato in prima per ritornare in promozione un po' come il mio amico Squadroni che vuole ritornare in eccellenza e quindi di conseguenza mi trovo qua perché il progetto è importante è un progetto che si trova vicino a casa no 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 ma la mia domanda è più è diversa lavoro perché sei andato via da Foligno ti hanno mandato via loro o sei andato via tu io voglio stare a questo no da Foligno sono andato via io per motivi lavorativi perché fondamentalmente gli orari degli allenamenti non si sposavano con il mio lavoro e poi ci sono altre motivazioni personali non è stata una scelta tecnica del ministro no assolutamente perfetto ok basta era la mia curiosità Fabio perdonami ma un giocatore così di questo valore di questa importanza è giusto che il telespettatore sappia il perché questo ragazzo si trova in quella categoria Stefano Bevagna a forza 7 ieri sul sol boccone del San Luca tra l'altro con tutte le vicende anche societarie che sono successe al San Luca sicuramente credo che abbiano nociuto le scorie della domenica precedente mentre va forte il Cascia è vero che il Trevi è ultimo in classifica eccetera però il Trevi aveva cambiato tecnico non cambiate tecnico perché mi sembra che non porta bene non va alla grande in quel senso diciamo il Cascia è in ripresa così come la Superga che sta risalendo al suon di vittorie la classifica che tra l'altro deve recuperare mercoledì la partita proprio col Cascia sì esatto sì è tra due squadre diciamo in buona salute in buona salute poi ieri c'era anche questo scontro diretto derby diciamo BM8 Spoleto Critunno di cui dovremmo avere le immagini adesso le mandiamo subito le immagini ecco allora magari la commentiamo dopo sì volevo solo prima di mandare le immagini con le quali naturalmente poi un breve commento e chiuderemo lo spazio della prima categoria di Gionecci anche parlare dell'altra squadra di Foligno la Virtus Foligno che è del nostro amico Capitan Benzi che insomma è un altro terzo quarto incomodo Leonardo in questo momento sì questo è un campionato molto equilibrato è un campionato che sarà divertente e interessante fino all'ultimo secondo me ci siamo noi c'è il Bevagna c'è il Campello e c'è la Virtus Foligno che tanti reputano una sorpresa ma secondo me non lo è perché se andiamo a vedere la squadra comunque è una squadra competitiva è una squadra che ha rifatto un po' tutto l'assetto societario organizzativo a dicembre sono anche disposti a prendere due o tre giocatori sì diciamo che hanno creato una struttura tale che gli permetterà di essere competitivi fino all'ultimo di essere in zona playoff hanno le idee chiare da quello che sembra e sarà sarà dura ma sarà anche bello per questo quindi li aspettiamo a Blasone tra l'altro c'è mi sembra la penultima partita prima della sosta quindi pre natalizia diciamo sì c'è la Virtus da noi poi c'è la prima di ritorno quindi il derby a Lenzo Blasone sarà da divertirsi sarà bello certo allora andiamoci a vedere intanto la partita del Flaminio di Spoleto dove stavolta la squadra di Loretoni la BM8 è incappata nel 2 a 0 anzi nello 0 a 2 ad opera della Clitunna passa 2 a 0 al Flaminio la formazione della Clitunno contro la BM8 Spoleto e dunque mastica Amaro mister Emanuele Loretoni per questo successo degli ospiti Clitunno in maglia celeste maglia azzurra mentre la BM8 Spoleto in divisa bianca andiamo a vedere la prima opportunità c'è questo cross al centro libera in qualche modo la difesa di casa al 26esimo occasione per la BM8 la palla spiove sul secondo palo ci mette una buona pezza il portiere Lazzarini che rinvia 25esimo calcio di punizione che fa la barba in pratica al palo della porta della BM8 e ancora la Clitunno al 44esimo trova il gol e il vantaggio un bel pallonetto da parte di Conti che porta dunque in vantaggio la formazione di mister Giusti con questo risultato si chiude il primo tempo andiamo alla ripresa al decimo arriva il cartellino giallo e poi il rosso doppia ammunizione infatti per Lilli che se ne va anzitempo negli spogliatori adesso diventa tutto più difficile per la squadra di casa allora al diciassettecimo c'è un'occasione ospite dove fa attenta guardia il portiere di casa ancora in avanti la formazione della Clitunno c'è questa bella incursione da parte del numero dieci Capoccia che però non inquadra lo specchio della porta prova la BM8 nonostante l'inferiorità numerica rendersi pericolosa ma il tiro è tutt'altro che trascendentale la Zanini controlla ancora al minuto trentanove occasione con la palla che rimbalza pericolosamente davanti al portiere che però la para e siamo al quarantunesimo c'è un'altra occasione per la Clitunno incredibile l'errore sottomisura per la possibilità del 2 a 0 ma trova delle autentiche autostrade la scuola di giusti in contropiede ennesima buona opportunità ma il tiro viene salvato sulla linea non viene salvato invece al quarantanovesimo perché c'è questo tiro che sorprende in qualche modo il portiere di casa e allora per Rossi è il compito di chiudere la partita sul 2 a 0 sarà anche il risultato finale vince la Clitunno sul campo della BM8 Spoleto è stata una partita secondo me giocata molto bene interpretata molto bene perché non è facile giocare su questo campo sintetico siamo stati oggi secondo me abbiamo migliorato la prestazione rispetto a domenica sicuramente l'episodio del primo gol ci ha favoriti però alla lunga penso che abbiamo meritato sicuramente la vittoria felice dopo una sconfitta spero che negli rights non sia negli ultimi 5 minuti quando la partita dopo è andata a finire a calci e abbiamo preso 2-3 contropiedi ma giocando in 9 si sta abbiamo fatto una more di gioco a dismisura 70 minuti abbiamo messi sotto abbiamo preso due golle che stavo dicendo ora se ce li penso non so come ho preso golle orgogliosissimo di questa squadra che ha dimostrato con una squadra molto più plassionata che aveva ha dichiarato altre ambizioni che noi siamo lì davanti benissimo allora un breve commento stavolta Loretoni Masticamaro dopo questo Masticamaro era incredulo ha sentito su questa sconfitta diciamo è un incidente di percorso l'agriturno comunque è una delle squadre più accreditate e quindi è un risultato che alla fine ci può anche stare nei pronostici di una vigilia poi dopo il dipanarsi della sfida è tutta un'altra cosa c'è stata anche qualcosina nei confronti della direzione arbitrale però diciamo che questo risultato conferma anche il grande equilibrio di questo girone e le numerose squadre attrezzate perché il domani a primo sta andando davvero alla grande poi c'è appunto la vista Foligno che ieri ha perso ma abbiamo visto il filmato insomma che è in salute è in salute per cui insomma è un campionato molto avvincente nelle parti alte e poi caro mister preparati un manicaretto che vedrai che ti torna su il morale come sai fare tu allora andiamo al girone D del campionato di prima categoria perché anche qui abbiamo un servizio prima risultati classifica Marina Ammeto Guardia 0-0 Castello Real Sant'Ursola 1-0 Colonia Romain Tiverina 3-2 Del Nera Romeo Menti 0-1 San Gemini Olimpia Colle Pio di Pantalla 3-4 Tiber Proficulle 1-1 Togli Nuova Tianese 3-2 Via Larga Marciano Real Avigliano 0-0 Apre la classifica la Tiber con 23 punti Segue la Romain Tiveria Proficulle 20 Guardia e Togli 19 Real Avigliano Lugna in Tiverina 16 Castello 15 Via Larga Marciano Real Sant'Ursola e Colonia 11 Ammeto 11 San Gemini 10 Del Nera 9 Olimpia Colle Pio di Pantalla 4 Chiude la classifica di Nuova Tianese con 3 punti Allora se non altro geograficamente Luisa Alberto Squadroni può darci una opinione su questo girone di Con questa Tiber che ieri ha pareggiato con la Proficulle però insomma sta andando veramente forte Ma sì la Tiber da quello che mi dicono un pochino tutti è la squadra che è ben attrezzata per cercare di vincere questo campionato anche questo è un campionato che ogni domenica te la giochi bene o male con tutti ho tanti amici a Castello dell'Aquila e faccio il tipo per Castello su questo campionato Castello che ha messo abbastanza bene in zona play per essere una neopromossa stanno facendo un buon campionato un ottimo campionato sicuramente poi c'è il Todi ci sono squadre comunque di valore ancora è presto per beh Todi che ha 18 punti e tra l'altro una partita in meno quindi virtualmente potrebbe essere secondo in classifica sicuramente sarà una di quelle squadre che si allotterà fino alla fine dopo la vittoria di ieri ad anni della nuova Attiglianese ma il Todi è a punteggio è a partite piene ha recuperato la classifica che ho io c'ha 9 tu ce l'hai sbagliata non è quella di 7 cani non è aggiornata bravo non è quella di 7 cani vedi qualche volta eh sì perché ha finito 0-0 il recupero con sì ha ragione allora andiamoci noi a vedere invece la vittoria della Colonia sul Lugnano in Teverina per noi ci ha confezionato il servizio Stefano Di Nardo al contenti di Collelungo di Baschi per la nona giornata del girone di di prima categoria Umbra sotto la direzione del signor Mario Nica della sezione di Terni scendono in campo Colonia e Lugnano in Teverina il Colonia con Pompei al quinto minuto si porta subito in vantaggio che di testa devia in rete la palla servita gli da Domiziani il Lugnano non accusa il colpo rendendosi pericoloso con Leonardo Tessicini che riesce a mettere in mezzo non trovando nessun compagno in grado di metterla dentro il Colonia al quattordicesimo con Pompei sfiora il raddoppio riuscendo a deviare la palla in rete sul ribaltamento di campo è Piciucchi a mandare a lato il Colonia al ventottesimo trova il gol del raddoppio con Pimponi che dal limite dell'aria manda la palla dove Santa Croce non può arrivare il Lugnano con Tommaso Tessicini prima a corsa le distanze bravo ad insaccare la palla non trattenuta da Bicaroni sul tiro di Granca e poi al quarantesimo trova il gol del pareggio anticipando Bicaroni in uscita sul cross dello stesso Granca la prima frazione di gioco si chiude con il Lugnano che da calcio piazzato sfiora la traversa la ripresa si apre con il Lugnano che si porta subito un attacco con Ruco che dal limite dell'aria manda la palla sul fondo Pompei servito da Manni al nono di testa manda alto Leonardo Tessicini all'undicesimo entra in aria trovando sulla sua traiettoria di tiro Mellario che tocca la palla con il braccio Nica non ci pensa due volte e assegna il calcio di rigore sul dischetto si presenta lo stesso Leonardo Tessicini con Bicaroni che intuisce respingendo la palla sul proseguimento dell'azione la palla finisce sui piedi di Tommaso Tessicini che tira trovando Passaglia che riesce a salvare sulla linea il Coloni al quattordicesimo si porta in vantaggio con Piciucchi bravo a respingere il rete la palla non trattenuta da Santa Croce il Coloni alza il baricentro mettendo pressione all'ugnano con Manni che riesce a rubare la palla a Ruco ma Santa Croce ben appostato riesce a respingere Michele Sensini al ventitresimo mette in mezzo dove trova Latini pronto a respingere con la palla che finisce sui piedi del neo entrato Stefano Nardi che manda la palla al lato il Coloni al trentaquattresimo ha una doppia opportunità per chiudere definitivamente i giochi prima con il neo entrato Fiaschini che prende il palo e poi con Trenta che manda alto in pieno recupero Ruco ci prova dal limite con Bicarone che si ristende deviando in angolo e salvando il risultato finale una partita stata dura credo che abbiamo vinto meritatamente molte occasioni da gol abbiamo giocato contro una buona squadra e l'ugnano terza in classifica quindi ne siamo fieri di aver portato a casa questi tre punti che a noi servivano molto per migliorare la nostra classifica il nostro obiettivo chiaramente è fare un bel campionato con una salvezza tranquilla e soprattutto l'obiettivo maggiore è portare in prima squadra i ragazzi del settore giovanile per in futuro cercare di avere una bella rosa che ci permetta di poter andare avanti in prima categoria la partita cioè l'avversario era un avversario importante però la partita l'abbiamo fatta noi nella buona e nella cattiva sorte purtroppo due infortuni il portiere che poi si è riscattato con quel rigore preso altrimenti avremmo pure perso la partita il calcio no purtroppo è bello per questo perché puoi dominare quanto vuoi ma poi alla fine se prendi tre pali e non segni alla fine gli errori li paghi caro ecco insomma non segna il calcio proprio quello che conta è stata la partita della Juventus dopo aver stradominato un euro goal e tre pali e poi hanno perso così oggi poteva succedere così come sta d'altra parte dall'inizio del campionato per sempre qualche piccolo episodio che ci condanna la prestazione la facciamo sempre forse non è la categoria adatta per cercare del gioco a calcio dovremmo essere un attimino più uccinici e cercare di chiudere la partita anche con qualche palla in verticale qualche palla lunga sì oggi è una partita dai due volti abbiamo cercato di impostare il gioco siamo riusciti anche secondo me però abbiamo avuto delle disattenzioni in difesa che ci hanno portato sul 2 a 0 per gli avversari con costanza che siamo messi sotto abbiamo recuperato la partita abbiamo avuto anche l'occasione con il rigore di portarla a nostro favore ma il portiere è stato bravissimo e poi con il contropiede abbiamo preso il terzo gol da quel punto la squadra si è un po' disunita però a me nonostante tutto sono piaciuti quindi per cui penso che andando avanti in questo modo possiamo fare bene comunque complimenti al Colonia perché ha delle ottime individualità allora questa settimana focus sulla seconda categoria per quanto riguarda il girone B visto che abbiamo due partite da mostrarvi prima però come di consuetudine vediamo i risultati di ieri e si lo spina ha mantenuto il comando della classifica invece il ferro di cavallo ha ottenuto una bella vittoria che lo porta in piena zona playoff siamo andati in casa di queste due squadre vediamo prima ferro di cavallo Colle Pepe e immediatamente dopo spina la Cuspiana campionato di seconda categoria girone B allo stadio comunale di San Sisto si affrontano il ferro di cavallo e il Colle Pepe in un orario abbastanza inconsueto perché si gioca alle ore 18 vedete infatti sotto la luce dei riflettori è una partita questa che si aggiudica alla fine il ferro di cavallo di misura con un gol maturato già dopo pochi minuti prima la conclusione però da parte del ferro di cavallo di cavallo con Poccioli che però va solo a sfiorare il gol e al minuto 10 c'è un calcio di punizione concesso dall'arbitro il tiro la parata del portiere sulla ribattuta arriva Fagioli e segna la rete del vantaggio del ferro di cavallo sarà anche questo il gol partita per la vittoria dei ragazzi in Maglia Granata ancora Gallo per il ferro di cavallo che mette in mezzo questo pallone al quindicesimo e bravo il portiere del Colle Pepe Temperoni a bloccare il pallone 18 l'azione parte da Palmerini poi il lancio lungo ad incrociare c'è un errore da parte di Latini il cross al centro sbroia la matassa anche in questa circostanza Temperoni 22 cross di Palmerini il colpo di testa la palla fuori di poco ancora di Fagioli 11 Sebastiani fugge ancora sinistra il cross il tocco di Fagioli che va a colpire il pallo sarebbe stato il 2 a 0 al 27 al 33 è il Colle Pepe finalmente a farsi vedere con l'azione in area di rigore prova ad anticipare il portiere il numero 9 Fortini ma non riesce nell'intento l'ultima azione al 42 è questo calcio d'angolo prima ribattuto poi riproposto da Sebastiani ancora Fagioli mira alta sopra la traversa finisce il primo tempo col ferro di cavallo in vantaggio per 1 a 0 con le immagini possiamo spostarci alla ripresa che già al sesto minuto vede il ferro di cavallo provare ad arrivare al raddoppio in realtà si tratta di una specie di ingenuità da parte della squadra ospite recupera il pallone battu arriva sul fondo mette in mezzo c'è una bella giocata da parte di gallo che poi appoggia per il tiro la palla che termina sul fondo il tiro di catapano che se ne va sul fondo risponde il Colle Pepe al decimo minuto il tocco però sul fondo da parte di Agero in sospetta posizione di fuorigioco ancora il Colle Pepe 18esimo tiro dalla distanza palla di poco alta sopra la traversa 30esimo sono i neri ospiti che si fanno vedere con l'azione di Ambrogi poi il destro da parte del numero 2 Cerco Iini che però non impensierisce il portiere di casa Ercoli break del ferro di cavallo 34esimo si presenta solo davanti al portiere l'attaccante dei padroni di casa è bravo l'estremo difensore Temperoni a salvarsi così come fa con l'aiuto del palo qualche minuto più tardi espulsione per il giocatore del Colle Pepe al 37esimo è Fortini che con qualche minuto d'anticipo va a farsi la doccia al 43esimo ultima ecco Fortini che esce dal terreno di gioco tutt'altro che contento ovviamente come è facile immaginare 43esimo di gioco ancora il ferro di cavallo pericoloso con il nuovo entrato Aquili che mette cerca di andare verso la porta viene fermato da Marinetti e poi ancora un altro cartellino rosso per un giocatore del Colle Pepe dunque che rimane in doppia inferiorità numerica ma il risultato non cambia vince il ferro di cavallo 1-0 Allora giudizio sulla partita credo una vittoria meritata da parte nostra insomma abbiamo avuto oltre il gol anche due pali anche diverse altre occasioni quindi ecco io sono contento perché i ragazzi comunque avevano bisogno dei tre punti dopo una serie di pareggi che obiettivamente c'erano un po' stretti per quello che facciamo durante la settimana e per quello che proponiamo in campo qualche volta comunque cerchiamo di proporre e quindi una vittoria meritata che ci dà un po' di morale ci ritira un po' sulla classifica e ci fa lavorare un po' più sereni anche perché mercoledì abbiamo una partita di Coppa e quindi dobbiamo assolutamente continuare su questa strada a Spina lo Spina ospita il Lacus Piana squadra di Castiglione del Lago per la giornata numero 8 del campionato di seconda categoria Girone B Spina in maglia bianca Lacus Piana invece in maglia gialla terreno in buone condizioni per giocare un incontro allora andiamo a vedere subito la prima palla il cross al centro il colpo di testa da parte di Del Buono che termina la parte scusate di Sidi Del Buono che termina sul fondo ancora il Lacus Piana pericolosissimo arriva al 27esimo il calcio di rigore su un'uscita a dir poco avventurosa del portiere Palomba va sul dischetto Lesti ed infila il gol dell'1-0 per gli ospiti del Lacus Piana quindi rete del capitano che va anche a festeggiare con i propri tifosi la reazione dello Spina calcio di pulizione la palla arriva dentro l'area di rigore il tentativo di pallonetto poi si salva in qualche modo la difesa ospite calcio d'angolo al 28esimo la palla spiove e va ad incocciare la traversa l'arbitro dice no tutto da rifare per la posizione irregolare calcio di pulizione per lo Spina è un buon momento questo per il padrone di casa cambio di fronte di gioco ci deve mettere una pezza il portiere spada e poi ancora il pallone a centro area tentativo di rovesciata da parte di Bigicchia ma non sortisce alcun effetto con le immagini andiamo sul finale del tempo con questo tiro alto siamo al 48esimo minuto e poi ancora lo Spina poco dopo su un maldestro disimpegno della difesa va a sfiorare clamorosamente il gol del 1 a 1 ma la squadra di casa allenata da mister David Boldrini non è assolutamente fortunata e andiamo ancora con le immagini al secondo tempo c'è questa bella azione della Cus Piana con Capurzo che mette al centro proteste degli ospiti ma stavolta l'arbitro non dice sì come in precedenza per la concessione del calcio di rigore allora si rifà sotto lo Spina Boncini cross al centro il colpo di testa e stavolta è il pertugio giusto trovato proprio da Boldrini dunque subentrato la rete del pareggio 1 a 1 di David Boldrini ci prova ancora lo Spina al 23 azione in area di rigore esce molto bene il portiere spade ci mette più che una pezza su questa opportunità cross di Pier Giovanni all'interno dell'area di rigore prova a liberarsi il giocatore dello Spina riesce molto bene a mettere in mezzo poi Del Buono mette il pallone risolve la mischia in calcio d'angolo bella questa giocata da parte della Cuspiana arriva però prima il portiere Palomba sul tentativo di Rovezzi di incuniarsi in area di rigore ci riprova ancora lo Spina e l'altro portiere stavolta Palomba stavolta scusate spada a brancare il pallone in presa e tutto finisce uno a uno è stata una partita tosta lo sapevamo che incontravamo una squadra che come noi ne aveva mai mai perso e quindi è stata una partitaccia però alla fine siamo andati sotto il primo tempo per un errore individuale ma ci sta poi abbiamo avuto 4-5 occasioni da gol non l'abbiamo fatta siamo andati il primo tempo su una zero poi il primo tempo siamo rientrati sempre in attacco e mi siamo riusciti a pareggiarla però un loro ottima squadra noi bella squadra alla fine è un punto che va bene per tutti e due penso allora è stata una bella partita giocata a viso aperto da entrambe le squadre lo Spina merita la posizione classifica che attualmente occupa anche se devo dire grazie a miei ragazzi che sono stati encomiabili per tutto l'arco dei 90 minuti dopo un primo tempo equilibrato e a parer mio leggero favorevole un po' a noi per il modo per l'atteggiamento per l'atteggiamento tattico e tecnico del campo nella ripresa abbiamo sofferto un po' il peso di questa squadra che comunque sia con l'ingresso di mister Boldrini ha dato ancora più peso offensivo siamo stati bravi peccato per il gol subito perché a quel punto nelle due o tre ripartenze che abbiamo avuto si poteva fare ancora meglio ci vediamo tra qualche minuto qui dalla concessionaria Satiri Auto a Trevi nel frattempo vi lasciamo in compagnia degli nostri spot pubblicitari a tra poco ti ricordi la esso di Collestrada all'interno dell'area di servizio trovi Enmey Café un posto ideale per potersi fermare in ogni momento della giornata il personale accogliente ti farà gustare abbondanti colazioni ricchi pranzi sfiziosi aperitivi e invitanti cene Enmey Café si trova lungo la E45 nell'area di servizio Esso Il centro commerciale Collestrada rappresenta dal 1997 il riferimento principale per le abitudini d'acquisto degli Umbri per lo shopping e il passeggio con oltre 50 negozi negli anni si è arricchito di nuovi servizi per rendere ancora più piacevole e funzionale il momento dello shopping dall'area dedicata alle mamme e ai loro bambini i parcheggi rosa il baby parking l'area allattamento e angolo nursery all'ampio parcheggio coperto dai due comodi punti Bancomat l'un ufficio postale aperto da lunedì al venerdì dalle 9 alle 19.45 e il sabato fino alle 13.10 molteplici anche l'offerta di diversi punti ristoro al centro commerciale Collestrada trovi inoltre Collestrada Carburanti il distributore di carburanti ai prezzi più bassi aperto 24 ore con servizio self da cassa automatica a Costano di Bastia Umbra in via Mendola 15 c'è un punto di riferimento per i tuoi lavori d'edilizia da Andrea Ciancabilla infatti troverai forniture e mano d'opera finiture di interni pavimenti parchè bagni porte vernici carta da parati tutto per l'edilizia lo trovi a Costano via Mendola 15 Cimas insieme al mondo agricolo dal 1840 progetti e realizzi impianti mangimifici e di stoccaggio cereali trasportatori a coclea e a catena elevatori a tazze macchinari accessori ricambistica al servizio del mondo mangimistico e molitorio Cimas si trova in via Val di Rocco 42 zona industriale di Ponte Felcino Perugia chiamaci allo 075 59 18339 o visita il nostro sito cimasitalia.it dove potrai trovare la vasta gamma di impianti realizzati Cimas custodi di eccellenza da oltre 150 anni in via Pontani 41 a Perugia c'è Handmade Cafè il luogo ideale per festeggiare qualsiasi evento lauree compleanni e passare piacevoli serate in compagnia di amici l'Handmade Cafè è il luogo giusto per il tuo pranzo e la tua cena ma prima puoi gustare pasticcini aperitivi a buffet l'Handmade Cafè è un ritrovo alla moda con musica dal vivo e schermi tv in un incantevole giardino Handmade Cafè in via Pontani a Perugia ti aspettiamo Gerlinda al centro delle emozioni La clinica di Otti ha aperto a Taverna di Corciano un nuovo centro diagnostico dotato di apparecchiature di ultima generazione dove il cliente ha la possibilità di sottoporsi a risonanza magnetica osteoarticolare aperta e chiusa tomografia computerizzata radiologia tradizionale ecografia e di usufruire del moderno centro prelievi con prenotazioni e risposte in brevissimo tempo Diagnosti Caliotti a Taverna di Corciano via dell'Osteria 1 per prenotazioni 075 506 80 40 Non sai dove andare a cena? Vini da Nonno Cencio Ristorante Pizzeria a Passignano un luogo incantevole con vista lago trovi cortesia qualità e prezzo aperto da lunedì alla domenica offre specialità di carne pesce di lago e di mare e un'ampia scelta di pizze in più la domenica aperto anche a pranzo il ristorante Pizzeria Nonno Cencio lo trovi all'uscita di Passignano Non sei riuscita a diplomarti? Ma lo vorresti? Vieni all'Istituto San Francesco recupera i anni scolastici e diplomati con Istituto San Francesco per tutti gli indirizzi di studi anche in un anno L'Istituto San Francesco si trova a Perugia e Foligno chiama l'800 609 149 Istituto San Francesco lo studente al centro Quasar Village è a Corciano, Perugia lo shopping village per acquisti tempo libero e relax con 60 negozi aree bambini campi sportivi sempre aperto anche la domenica il Quasar Village di Corciano una struttura tra le più complete a livello nazionale e ormai da loro 13 anni il punto di riferimento per lo shopping e il tempo libero a Perugia Quasar Village lo shopping del futuro e il tuo momento di svago vai su quasarvillage.it e scarica la app del centro Satiri Auto Satiri Auto cresce e si rinnova la sede di Gualdotadino è anche vendita e assistenza Ford e da oggi ci trovi pure a Città di Castello in Viale Romagna in Viale Romagna Satiri Auto cresce la passione per le quattro ruote è il momento del campionato di eccellenza come nostra con Zetuneni quindi con Irene andiamo a vedere i risultati e la classifica dopo la decima giornata che si è giocata ieri Assisi Subasio Massa Martana 0 a 2 Castel del Piano Foligno 0 a 1 Ducato Angelana 0 a 0 Ellera Narnese 2 a 2 Lama Spoleto 0 a 2 Ponte Valleceppi Ponte Vecchio 2 a 1 Pievece Orvietana 0 a 1 Sansepolcro 13 Angelana e Ponte Vecchio 12 Massa Martana Enarnese 11 Ducato e Ponte Valleceppi 10 punti Orvietana 8 Pievece 5 Chiude la classifica Assisi Subasio con 4 punti E allora insomma bella vittoria quella dei tuoi ex compagni squadroni della Massa Martana sull'Assisi Subasio Comunque visto finire le partite della domenica bene o male ci si informano li seguo sempre e gli faccio un ingrosso in bocca al lupo e sono contento che stanno risalendo la classifica purtroppo a Massa tutti gli anni c'è questa partenza handicap tra l'altro anche con infortuni abbastanza importanti perché i fratelli Angeli per esempio sono stati fuori per diverse partite sì quello sicuramente però una squadra che ha valori importanti quindi sapranno fare un ottimo campionato da qui alla fine senza problemi sono particolarmente contento per un giocatore come Gesuele che ne ha passate molte a livello fisico di vicissitudine lo conosco poco felice però comunque è un ragazzo tosto e tecnicamente è di un'altra categoria come lo stesso bagnato insomma bagnato è un giocatore straordinario per il campionato eccellenza allora Irene io direi di parlare della partita che hai visto tu ieri sei stata a Città della Pieve l'abbiamo definita venerdì come una sorta di spareggio fra squadre un po' pericolanti alla fine ha vinto l'Orvietana che partita ci andrai a raccontare tra poco ok essendo le ultime della classifica l'Orvietana l'ha spuntata con tre punti il pareggio non sarebbe stato male però insomma è stata una partita accesa e combattuta primetto che lo stadio è bellissimo e ci hanno accolto molto bene al contrario di quelli che hanno accolto gli operatori quindi bravi a Città della Pieve questo vi fa onore al contrario di quell'altra hai fatto bene a dirlo tra l'altro in uno stadio intitolato a Serenella Bagioni a Serenella Bagioni tra l'altro Fiorucci credo che l'abbia in qualche modo citata ma che c'è stato un rigore dopo l'arbitro ci ha ripensato come è successo sì sì dopo nella cronaca che Irene ci farà è quello non è che ci ha ripensato è stato l'assistente è stato che ha detto però l'arbitro è tornato sulle sue decisioni è stato bravo guarda devo fare i complimenti all'arbitro adesso non mi ricordo il nome era d'Arezzo era d'Arezzo perché gli hanno fatto notare che il guardaline chiedeva la sua attenzione lui è andato là e gli ha detto guarda è così è così è stato veramente bravo eccezionale adesso al di là se c'era o non c'era non lo so io non voglio giudicare questo però al di là c'era anche un'espulsione su un'altra partita ma che parliamo adesso tu fai vedere il servizio di Irene oppure vogliamo dire qualcosa su questa eccellenza perché io ci credo adesso prima prima il servizio di Irene e poi lascio a te la sintesi del campionato anche perché Boraccia ha fatto una parola di chilometri non ha manco mangiato beh vabbè mica vive vegeta noi la domenica la linea la manteniamo perché non abbiamo tempo nemmeno di mangiare comunque hai fatto bene Fabio a mandarli a giro tocca a tutti allora vinto l'Orvietana 1 a 0 sulla Pieve vediamo il servizio di Rani Minciarelli al comunale di Serenella Baglioni si sono affrontate le ultime della classe Pieve e Orvietana nei primi minuti si è visto in campo un certo equilibrio quasi scontato in quanto le due formazioni si sono studiate in tribuna Davio Mattoni sta assistendo alla gara di chi prenderà il posto? passiamo alla cronaca al 17esimo primo vero tentativo dell'Orvietana con Metelli che spreca tutto sottoporta al 39esimo la Pieve se fallisce un'ottima occasione capitata su piedi di Cacciamano al 41esimo ci prova Graziani su calcio di punizione dal limite senza esito il primo tempo termina sullo 0 a 0 nella ripresa è cominciato una carica agonistica sopra le righe tant'è vero che il direttore di gara è dovuto intervenire più volte per calmare gli animi all'ottavo Cacciamano va a terra in area orvietana e l'arbitro in un primo momento indica il dischetto ma viene smentito dal suo assistente di linea rigore non concesso al 13esimo ci prova Diga su punizione che sfiora la traversa al 16esimo la Pieve se in contropiede con Vitali che serve in profondità Don Garrà che ci prova ma ci mette una pezza a Nibaldi gara molto accesa e spigolosa con pochissime emozioni al 37esimo Missaia consegna una palla d'oro a Liurni appena è entrato con una freddezza batte l'incolpevole Vincenzi orvietana in vantaggio al 40esimo De Vincenzi compie un vero e proprio miracolo neutralizzando un tiro insidioso di Polidori non succede nulla da quella fine risultato finale orvietana uno piovese 0 siamo con il mister dell'orvietana Fiorucci allora una boccata d'ossigeno che fa sperare per il futuro una buonissima boccata come dici la boccata d'ossigeno anche se la squadra negli ultimi 15 giorni è cresciuta tantissimo quindi almeno da quando ci sono io la squadra è cresciuta veramente tanto oggi magari è una periodata 0-0 obiettivamente due squadre abbastanza vogliosa di non prendere gol perché chi l'avrebbe preso magari abbiamo vinto abbiamo ripreso quei punti che domenica abbiamo perso con l'Eller era perso noi l'Eller non ha rubato niente ma in una partita che il primo tempo c'è 5-6 occasioni da gol devi buttarla dentro quindi siamo ripresi quei punti no e magari nella partita è più adatta ripeto si contende la squadra perché ha battagliato non ha mollato un centimetro è un campo particolare a me evoca tanti ricordi perché qua credo che la presidentessa Serenella Baioni anche se era la presidentessa di qua sarà contentissima che il suo pupillo Silvano Fiorucci avventuò la partita perché eravamo noi in sintonia di più sinceramente una grandissima persona una grandissima presidentessa io la chiamavo la presidentessa con le palle si può dire non era il protetto quindi è la scomparsa sua insomma non è che dispiaciuta di più perché veramente è una persona che di calzo non è capito è una persona che si può mettere il proprio aso quindi credo che oggi un po' sarà contenta pure lei certo sicuramente grazie mister siamo con il mister Tali della Piovese allora avete giocato bene ma il pareggio sarebbe stato giusto per lei? secondo me il pareggio oggi era risultato giusto una partita equilibrata dove non ci sono state occasioni limpide da gol né da una parte né dall'altra un episodio avrebbe deciso la partita l'arbitro ci aveva assegnato quel calcio di rigore poteva essere quello l'episodio per far girare la partita dalla nostra parte poi l'assistente ha sbandialato il fuorigioco e quindi niente loro hanno avuto questa occasione una deviazione sfortunata e la palla è entrata dentro poi ci abbiamo provato fino alla fine nulla da rimproverare i ragazzi ce l'hanno messa veramente tutta però purtroppo non siamo riusciti a pareggiare la partita ok grazie ringraziamo il mister Lina allo studio allora Giacomo tutto tuo il panorama del capito di eccellenza e come hai visto tu Peluso Peluso ti ha smentito perché ha regalato tre punti fondamentali al Foligno in ultra zona Cesarini no no tu hai detto i giocatori venerdì non è che c'è solo Peluso ieri c'è stato Peluso ma meno male sta lì apposta è pagato per fare gol io lo tutelo infatti ho detto prima di evitare di prenderlo a zampate poraccio detto questo il risultato più sorprendente per me è stato non quello è stato quello del Ponte Valleceppi per carità nulla togliere al Ponte Valleceppi però andare a vincere contro una Ponte Vecchio che io avevo visto molto bene esprimersi contro il Sansepolcro e quindi mi aspettavo dico la verità una vittoria di Martinetti invece c'è stata la vittoria di Guastalvino quindi bravo Paolo tra l'altro è un ragazzo che io ricordo ai tempi del Perugia bravo Paolo che ha fatto bene però e non mi ha sorpreso il risultato mi ha sorpreso invece il risultato di San Sisto di Sansepolcro avanti 2-0 il Sansepolcro sì ma mi ha sorpreso perché il San Sisto non è che sia uno squadrone è una squadra compatta piena di giovani che corrono fanno però io avevo visto molto bene la squadra di Andrea Bicca e questo mi ha deluso quindi questa sconfitta caro Andrea ti dovrà ti dovrà far riflettere un attimo tu sei un ragazzo in gamba preparato hai giocato ad alti livelli io credo che tu a questo punto debba riflettere su questa pesante sconfitta perché a farvi tutti i complimenti siamo tutti bravi a essere l'amico è vero quando ti dice anche il contrario cioè quello che non va bene che tu ti vorresti sentire dire dico bene Leo ecco ecco quindi questo mi ha sorpreso come però avevamo anticipato che il Folignia avrebbe fatto fatica l'avevamo detto no quel castello del piano sì ce l'aspettavamo è oh un a zero a 52 a 52 ma perché ha fatto con un certo Peluso sì perché se no non lo so come si metteva perché ragazzi quindi questo è a conferma che il castello del piano ha speso poco ma ha fatto una bella squadra una squadra diamo merito anche al mister Abbenante e questo volevo dire il merito a Luigi Abbenante perché ha dimostrato ancora una volta che al di là se lui allena a città della Pieve o a castello del piano dove va quando uno è bravo è bravo non c'è niente da fare le chiacchiere sono a zero quindi ottimo risultato quello di Zoran Luzzi un punto appreso ma io ho visto le immagini secondo me meritava di più è stato sfortunato però ce sta ce sta ce sta come ha detto Irene sull'Orvietana va bene quello che ha detto lei poi che altra partita c'è che devo devo citare mi pare che l'hai citato un po' tutti non hai citato lo Spoleto ecco manca lo Spoleto io Spoleto ragazzi però tanto è il tuo cavallo di battaglia per me è il mio cavallo di battaglia è nata a vincere in trasferta anche domenica quindi c'è poco da dire io non vedo l'ora che arriva questa benedetta domenica c'è la sfida con Zoran Luzzi a Spoleto o Ellera a Spoleto a Spoleto andatemi la telecamera caro Zora caro Zora passa da me che ti posso dare qualche informazione altrimenti sono tre punti per loro ciao Leonardo leghiamoci a questo super favoritissimo il Foligno però questo Spoleto a sto punto non scherza sì diciamo che il Foligno è una grande squadra conosco tutti i ragazzi tra chi ci ha giocato contro insieme conosco l'ambiente conosco il mister conosco la società è la favorita però vincere non è mai facile lo Spoleto al canto suo ha dei giocatori di un'altra categoria Papini l'eccellenza no la Serie D non l'ha mai fatta se non sbaglio bravo la punta Falconieri fortissimo fuori quota forti ma conosco anche bene i ragazzi del Foligno sarà un campionato equilibrato anche questo anche tu pensi fino alla fine sì io pensavo che in realtà non ci fosse stata storia in questo campionato invece vedendo anche un po' le immagini dello Spoleto e sentendo un po' i commenti sì penso che ci sia un campionato lungo un campionato che ci farà divertire però il Foligno domenica ha dimostrato che anche in una partita difficile episodi vari dopo escono fuori i giocatori perché se vedi il gol lancio di Gorini ai 70 metri che pochi lo fanno stop al volo calcio cioè sono i giocatori che alla fine fanno la differenza in questo campionato il singolo paradossalmente sarà una delle poche volte in cui il singolo farà l'esplosione è l'episodio singolo domenica altra trasferta per il Foligno che andrà all'Orvieto al Luigi Muzzi ad affrontare l'Orvietana di Fiorucci mi dispiace per il nostro Silvano Fiorucci ma non c'è storia comunque le partite le devono giocare non è mai facile vincere non è mai facile telegraficamente Luis si dice che questo campionato di eccellenza è cresciuto molto di livello rispetto anche all'anno scorso che ne pensi sicuramente vedendo i nomi dei giocatori che ha citato lui prima fra Falcognieri Papini parlando solo dello Spoleto sì quelle due delle squadre più forti ci sono però io so sempre dell'opinione che ogni domenica devi andare a giocare e poi il campo dal perdetto della partita partite bisogna vincerle poi dopo sulla carta non si vincono mai le partite se ne vorrà dire che lo Spoleto comunque ha un signor portiere Zandrini che ci ha fatto la rappresentativa parecchi anni fa è veramente forte quindi se non prendono gol se lo Spoleto prende pochi gol potrà pure cercare di vincere il campionato sicuramente allora io ricordo solo che rimanendo in ambito Umbro mercoledì alle 15.45 si recupererà Lama Orvietana la partita che fu sospesa sul punteggio di 0 a 1 per impraticabilità di campo si gioca quindi a Lama al Polchi Laurenzi ci sarà però anche la coppa di promozione mercoledì si giocano le due semifinali alle 14.45 Petrignano Nestor alle 19.30 Marla San Feliciano Gualdo Casa Castalda quindi la squadra avversaria di domenica scenderà in campo anche mercoledì Luis quindi speriamo per voi almeno voi sperate che ci sia qualche forza è un vantaggio speriamo che per una volta gli episodi ci girino pure a favore tra l'altro tre squadre del vostro girone su quattro in questo finaliste semifinaliste della Coppa Italia quindi significa che poi almeno da vedere dalla Coppa non c'è tutta questa differenza tra il girone B e il girone A dal punto di vista qualitativo quello no sicuramente speriamo domenica che gli episodi ci girino a favore visto che fino adesso le partite abbiamo perso fra l'episodio del rigore e l'altro non siamo riusciti a portare a casa punti sono contento che i punti abbiamo portato a casa invece ce li siamo solo guadagnati ho preso sei rigori contro in nove partite in dieci partite l'ho parato in due due l'hanno tirato di fuori e due l'hanno segnato quindi è andata pure più che bene due rigori su sei allora adesso passiamo al campionato di Serie D sempre con Irene risultati e classifica in realtà si è giocato ormai da diversi giorni tra virgolette si è giocato tutte le umbre hanno giocato di sabato vediamo come è andata ricordiamolo Aianese Massese 2 a 2 Bastia Pianese 1 a 1 Cannara Sinalunghese 1 a 1 Ponsacco Seravezza 5 a 1 Prato Ghivizzano 0 a 1 Realforte Querceta Scandicci 0 a 1 San Donato Tavarnelle Tutto Cuoio 1 a 2 San Gimignano Aquila Montevarchi 0 a 1 San Giovannese Cavorrano 0 a 2 Trestina Viareggio 1 a 0 In testa c'è Tutto Cuoio con 25 punti Segue Ghivizzano 24 Ponsacco 22 Pianese 21 Aquila Montevarchi e Trestina 19 San Giovannese 18 Cannara e Seravezza 17 Gavorrano 16 San Donato Tavarnelle 14 Bastia 12 Prato e Realforte Querceta e Sinalunghese 10 punti Scandicci 9 Viareggio e San Gimignano 8 Aianese 7 Chiude la classifica La Masse è seconda 6 punti Allora diceva prima Giacomo Bevi L'acqua Stefano che non retrocederà nessuna Umbra al momento mi pare che pericoli grossissimi non se ne corrano No beh le Umbre sono diciamo in buona salute sabato hanno fatto buoni risultati forse qualcosina in più poteva provare a fare il Cannara perché affrontava in casa una squadra che era sotto in classifica però tutto sommato anche il Cannara sta facendo un gran bel campionato ha un ottimo punteggio fino a questo momento per cui il Trestina è tornato a vincere il suo secondo me sì non ci dovrebbero essere grossi problemi a meno che non succeda qualcosa a dicembre diciamo non ci saranno perché a dicembre si rafforzeranno sicuramente è tornato a successo il tutto cuoio vedi e anche il Trestina grazie a Gramaccia e anche a Trestina grazie al nostro amico presto lo avremo lo potremo invitare presto Stefano Gramaccia ma tanto Stefano è una garanzia tu ci hai giocato anche quindi lo sai e quindi guarda che i organici delle tre squadre umbre sono competitivi sicuramente qualcosa farà sia il Bastia che il il Cannara il Trestina non credo ma loro due sì io ho visto sabato il Bastia adesso vediamo il seguito devo dire la verità la pianese gioca molto bene poi il Bastia ha avuto la sfortuna che Tascini si è fatto male dopo mezz'ora e questo Tascini il vero attaccante ha perso peso lì davanti poi però devo fare i complimenti al presidente Mammoli bravo presidente sei uno dei pochi presidenti in giro che sa fare veramente il presidente sei una persona squisita sai accogliere le persone sai dare voce a chi merita e non certi cialtroni e poi quando si dice campagna di rafforzamento se si prende Bagnai da difensore centrale fa due gol decisivi esatto che regalano praticamente tre punti quattro punti insomma penso che è la vera campagna di rafforzamento andiamo a vedere questo servizio no scusa il Bastia questo anche perché merito all'addetto stampa Fabio Marracci che ha Bastia cosa che molte altre società ce l'hanno per finta il general manager poi io non lo lasciamo aperto Bastia Pianese 1 a 1 l'anticipo dell'undicesima giornata del campionato di serie D Gironè ha visto allo stadio comunale degli esposti di Bastia i biancorossi locali di mister Bonura affrontare gli ospi della Pianese di mister Bacci in bianconero ha diretto la partita il signor Peletti di Crema assistito dai signori Besozzi e Agostino inizia la partita e dal quinto minuto su assist di Bura Belli in corsa non riesce a concludere con precisione nello specchio della porta gli ospiti della Pianese continuano a premere e dal nono c'è la bella conclusione dal limite dell'area di Simeoni che si perde di poco fuori dall'incrocio dei palli arriviamo al diciottesimo l'uscita di Lillacci provoca il rigore su Giustarini dal dischetto Benedetti realizza il vantaggio per la Pianese quindi Pianese 1 Bastia 0 le due squadre continuano ad affrontarsi con ritmi molto elevati e belle giocate su entrambi i fronti ma di conclusioni pericolose non ne registriamo fino al quarantacinquesimo quando Lillacci riesce a sventare un'insidiosissima deviazione da sottomisura di Giustarini poi l'arbitro manda tutti negli spogliatoi inizia il secondo tempo che vede partire in avanti il Bastia ma gli ospiti bianconeri non concedono opportunità al sesto proteste per un presunto fallo in area sul neoentrato Falorni l'arbitro concede la punizione agli ospiti al dodicesimo bella la punizione di Crea che finisce di poco al lato deviata da un difensore bastiolo arriviamo al ventesimo su punizione di Boldini Bagnai di testa realizza il pareggio per il Bastia quindi siamo sull'uno a uno arriviamo al ventitresimo quando da calcio d'angolo per la Pianese Catanese colpisce di testa superando l'illacci Colombi salva evitando il raddoppio degli ospiti inizia la girandola delle sostituzioni per entrambe le formazioni ma la sostanza della gara non cambia sei minuti di recupero concessi dal direttore di gara al termine dei quali Bastia Pianese pareggiano per uno a uno complimenti alla squadra che ricordiamo oggi purtroppo era squalificato siamo dispiaciuti per i risultati perché abbiamo fatto veramente un bel primo tempo dove abbiamo giocato a calcio dove abbiamo meritato la vittoria e quindi si pensava di poter portare in fondo il risultato con un po' più di attenzione con un po' più di quella cattiveria agonistica che purtroppo abbiamo concesso allora l'iniziativa nei primi 20 minuti del secondo tempo questo è il rammarico che ci portiamo dietro perché dopo che abbiamo subito il gol abbiamo ricominciato ad attaccare abbiamo ricominciato a giocare e quindi dobbiamo migliorare sotto questo aspetto sicuramente la Pianese è una bella squadra un grosso palleggio primo tempo un po' abbiamo sofferto in effetti questo loro processo palla anche se non hanno creato a parte la situazione di rigore grosso palleggio noi abbiamo avuto due o tre situazioni da cross dentro l'aria e diciamo siamo andati sotto dopo il secondo tempo gli ho chiesto ai ragazzi di tenere la partita aperta innanzitutto perché ero convinto che si poteva recuperare in più io ho chiesto di alzare un po' il ritmo nel baricentro e direi che il secondo tempo hanno fatto 20-25 minuti veramente belli dentro la metà campo loro abbiamo meritato secondo me il pareggio allora eccoci eccoci tornati quanti iscritti siamo arrivati siamo arrivati a circa 300 iscritti e abbiamo 21 squadre di settore giovanile partendo dalla categoria allievi fino ai piccoli amici a quali campionati partecipate? allievi regionali giovanissimi regionali allievi fuori classifica giovanissimi fuori classifica poi esordienti pulcini primi calci piccoli amici qual è la vostra filosofia e quali sono i vostri obiettivi? la filosofia sicuramente è quella di far crescere i ragazzi nel miglior modo possibile sotto l'aspetto umano sotto l'aspetto disciplinare e sicuramente anche sotto l'aspetto tecnico visto e considerato che giocano a calcio perciò l'obiettivo è di farli crescere anche sotto questo aspetto Quanta importanza date alle classifiche? La classifica l'abbiamo solo su due campionati che potrebbe essere importante che sono gli allievi e i giovanissimi regionali in quanto la federazione facciamo campionati con retrocessione e promozioni perciò è normale che c'è quell'agonismo giusto quell'agonismo giusto che ci deve essere in queste fasce di età Nei vostri programmi prediligete la parte tecnica o piuttosto quella atletica? Ma è una cosa che va insieme perché la tecnica è alla base senza tecnica praticamente non si può giocare a calcio la parte atletica è compensativa e di conseguenza dobbiamo lavorare su entrambe Quanto vengono coinvolti i genitori in tutto questo? I genitori vengono coinvolti perché ogni gruppo è composto da 4-5 accompagnatori che ogni domenica si sacrificano accompagnano i propri figli e di conseguenza vengono via con i vari gruppi che abbiamo Il settore giovanile del Bastia è noto per i suoi talenti e l'ultimo qual è? Bella domanda io adesso sono arrivato quest'anno comunque io mi ricordo mi ricordo che l'avevo forse intravisto rappresentativa quando facevo rappresentative è un ragazzo che giova con l'Inter che si chiama Ranocchia Molto noto Adesso Adesso diciamo che C'è qualcuno in prospettiva? In prospettiva sì forse ce l'abbiamo ma è meglio non svelare nomi e cognomi perché sennò dopo addio è meglio lasciarli in incognito sperando che crescendo crescendo siano quei talenti che intravediamo adesso Esatto non sveliamo niente che rapporto avete con l'amministrazione? Io penso buonissimo perché l'amministrazione abbiamo a disposizione quattro impianti perciò sicuramente è molto attenta e è presente e quali sono? Gli impianti sono abbiamo ospedalicchio che al momento non possiamo utilizzare per via che stanno rifacendo i lavori dei spogliatoi abbiamo questo impianto qui in sintetico che è Borgo primo maggio abbiamo l'impianto di Costano Nuovo che è dove noi giochiamo con tutte le squadre agonistiche e poi abbiamo Costano Vecchio dove facciamo gli allenamenti e c'è anche un altro piccolo sintetico che ci serve per lavori specifici Allora ultima domanda chi si sente di ringraziare? Io ringrazio tutti quanti e in primis il presidente Mammoli che mi ha dato l'opportunità di poter svolgere questa attività in un contesto così importante anche perché a Bastia ci ritorno volentieri perché sono stato da giocatore qualche millennio fa da allenatore dove ho fatto due anni con la Juniors Nazionale che è stata un'esperienza bellissima e adesso questa nuova esperienza spero che sia altrettanto bella poi vorrei ringraziare i molteplici tecnici che abbiamo perché abbiamo 18 tecnici abbiamo 18 tecnici di cui abbiamo un responsabile dell'attività di base che è Marco Pelliccia e poi tutti i vari tecnici con trascorsi alcuni anche di alto valore calcistico pertanto abbiamo una qualità un team di istruttori dico veramente buono Allora perché i genitori dovrebbero indirizzare il proprio figlio a questa società piuttosto che a un'altra? Ma io penso che prima di tutto perché c'è un discorso noi stiamo lavorando in maniera molto professionale devo dire perché l'obiettivo è proprio questo cioè facciamo settore giovanile oltre che per la crescita anche sotto l'aspetto sociale e di conseguenza per chi abita a Bastia o nelle immediate vicinanze penso che sia una scelta giusta e adeguata Ok ringraziamo il responsabile Stefano Morricciani e dalla società Bastia 1924 è tutto Lina allo studio Eccoci tornati allora io vi saluto ringrazio naturalmente Leonardo Agostini centrocampista della Vis Foligno al quale faccio uno sprone ma anche in bocca al lupo per tornare molto presto in campo Grazie Cravo e Lupo e poi saluto Giacomo Bevilacqua Ciao a tutti Stefano Baiani Buonasera a tutti e Luis Alberto Squadroni portiere portiere dell'MC98 Io volevo salutare Annalisa Sattiri Ciao Annalisa speravo di vederti oggi invece mi tocca vedere anche io saluto tutta la famiglia ti mando dei baci e vi ricordo che venerdì non ci saremo con Aspettando la Domenica turno di riposo in coincidenza con la Serie B torneremo il 23 di novembre e lascio ad Irene la chiusura Dalla concessionaria Autosatiri di Trevi avete assistito a Studio 90 lunedì la prossima puntata sarà lunedì 19 sempre alle ore 21 sul canale 110 Tutto Sport Buonasera a tutti a chi l'avrebbe detto mai come è volato il tempo la vita forse va così ti affianca e ti sorpassa e tu che tiri dritto ti sembra sempre di andar piano invece insegui la tua strada e sei arrivato fino a qui ma chi l'avrebbe detto mai grazie a tutti con il cuore a tutti quanti a chi mi vuole bene chi mi ha insegnato a guardare avanti ed anche a chi mi ha fatto male mi è servito per capire grazie a chi mi ha detto no ad un sorriso sconosciuto ad una donna ad un amico e a quella porta chiusa in faccia a chi non mi ha tradito quella volta è una questione di ironia se vuoi strammatizzare e quando pensi di sapere hai ancora da imparare se corri arrivi più veloce ma forse perdi delle cose e quando credi sia finita un'occasione nuova avrai ma chi l'avrebbe detto mai grazie a tutti con il cuore a tutti quanti a chi mi vuole bene chi mi ha insegnato ad andare avanti ed anche a chi mi ha fatto male mi è servito ad imparare grazie a chi mi ha detto no al sorriso di un bambino a una donna alla mia sposa grazie a tutti che date vita alla mia vita in questa favola infinita che mi ha insegnato a guardare avanti anche se è ferito al cuore mi è servito per capire grazie a chi mi ha detto no alle sfide e alle salite dalle mani di mio padre e a quella porta chiusa in faccia a chi non mi ha tradito quella volta per quanto ho dato quanto ho avuto per quanto ho riso ho pianto ho sperato per ogni giorno che ho ricominciato per ogni istante regalato voglio dire grazie a tutti